Alle otto della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Elio e il De Bello Civili. Di Elio e Caio Giulio Cesare. Caio Giulio Cesare. Elio e Caio Giulio Cesare. E il De Bello Civili. Giulio Cesare, reduce dai successi nelle guerre galliche, si rende ben presto conto che non verrà accolto come trionfatore in città perché il partito dei suoi avversari ha preso molta forza e trama contro di lui. Infatti gli ha tolto due legioni con la scusa di una falsa guerra contro i parti e le ha date invece a Pompeo che Cesare pensa le userà proprio contro di lui. Infatti questo avverrà poi. E oltretutto gli è stato dato l'ordine di abbandonare le sue truppe e di andare a Roma. Allora Cesare invia una lettera ai senatori in cui propone che tutti i generali e quindi anche Pompeo abbandonino la testa delle loro truppe. Il console Lentulo rifiuta di discutere il contenuto della lettera di Giulio Cesare e negli stessi termini interviene il senatore Scipione che essendo suocero di Pompeo parla, ci dice Cesare a nome suo. Ci sono anche dei senatori indecisi fra i quali Cesare nomina Marco Marcello, Marco Calidio e Marco Ruffo che cercano un compromesso fra Cesare e Pompeo ma vengono zittiti dagli avversari di Cesare. Il senato al termine degli interventi emana un ordine per Giulio Cesare che è quello di licenziare le sue truppe altrimenti mostrerà di essere avversario dello Stato. I due tribuni della plebe che come ho detto sono alleati di Giulio Cesare oppongono il loro veto e vengono affrontati con asprezza dagli avversari di Cesare. Al termine della riunione senatoriale Pompeo convoca tutti presso di sé, Pompeo infatti è attestato poco fuori Roma, questa è una sorta di trucco perché in generale non può entrare con le sue truppe all'interno della città, allora Pompeo si mette poco fuori Roma. E quindi cerca di convincere gli indecisi a passare dalla sua parte. Si offrono due uomini, cioè Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Cesare il quale ha sposato sua figlia Calpurnia e il pretore Lucio Roscio, si offrono di andare presso Cesare per tentare una mediazione e chiedono per questa missione sei giorni di tempo. Ma il console e altri senatori si oppongono, il console Lentulo, ci dice Cesare, è mosso dall'enormità dei suoi debiti, Scipione, come abbiamo detto suocero di Pompeo, è mosso dall'ambizione e anche perché spera di ottenere una provincia e degli eserciti, Catone, che non è Catone il censore ma è Catone Uticense, Uticense perché si ucciderà presso Utica, è mosso in questo dall'inimicizia personale contro Giulio Cesare e anche dal rancore per un insuccesso elettorale ottenuto non contro Cesare ma contro dei candidati pompeiani. Per cui siamo in pieno caos, cioè Catone è mosso da motivi personali ed è avversario in questa prima fase non solo di Giulio Cesare ma anche di Pompeo. Quindi Cesare ci si pone, cioè si pone al lettore in questa prima fase come il garante del buon andamento delle cose nella Repubblica. Fatto sta che dopo gli interventi degli avversari di Giulio Cesare non si ottiene un bel niente per Cesare, ma anzi il Senato ricorre all'estremo decreto cui non si era mai giunti tranne nei casi in cui la città si era trovata sull'orlo dell'abisso. Cioè provvedano i consoli, i pretori, i tribuni della plebe e i proconsoli a che lo Stato non subisca alcun danno. In altri termini si danno poteri assoluti ai magistrati. Questo accade il 7 gennaio del 49 prima di Cristo, In conseguenza di ciò i tribuni della plebe sono costretti a fuggire presso Cesare che è attestato con le sue truppe a Ravenna e questi quindi sono i prodromi di una guerra che Cesare ci mostra di non volere assolutamente, una guerra fratricida che lo oppone al suo ex alleato e genero Pompeo. Nei giorni successivi il Senato si riunisce fuori Roma. Questo è un trucco perché, come detto, Pompeo è attestato fuori Roma e il generale con le sue truppe non può entrare in Roma. Quindi per fare in modo che Pompeo prenda parte alla riunione si va fuori Roma. Quindi Cesare cita questa che è solo la prima di tutta una serie di irregolarità commesse dai senatori tra le quali, per esempio, la proposta di finanziare Pompeo con soldi pubblici, il fatto che si facciano dei nuovi arruolamenti, che si mandi il proprietore Fausto Silla in Mauritania e altre. Qui va anche detto che questo libro, che per noi è così utile dal punto di vista storico, in realtà viene scritto da Giulio Cesare per giustificare agli occhi dei suoi contemporanei il fatto che poi lui abbia fatto guerra contro Pompeo. Quando Cesare sa di questa riunione fuori Roma, nella quale, ci dice Cesare, si sconvolgono tutte le leggi divine e umane, arringa le sue truppe, parla delle offese che gli sono state arrecate dai suoi avversari, si duole che i suoi avversari abbiano convinto Pompeo, suo ex amico, ex alleato, a mettersi contro di lui, fa tutto un elenco delle irregolarità commesse, dice che non è mai accaduto prima che per fatti poco gravi si ricorresse a quella formula, cioè che i magistrati provvedano a che lo Stato non abbia a ricevere alcun danno. Un decreto a cui si ricorreva solo in casi eccezionali. Insomma, chiede alle sue truppe, quelle truppe che avevano combattuto per lui nel corso della guerra gallica per otto, nove anni, chiede a queste truppe che lo vendichino. Detto questo va alla volta di Rimini, che è importantissima perché Rimini è la prima città oltre il confine della Gallia Cisalpina. Quindi Rimini non è solo un luogo in cui si va in ferie, ma è importantissimo dal punto di vista storico. Cesare va anche detto che non parla assolutamente di tutta la storia del dado e tratto e di quando passa il rubicone, ci dice solo che gli arrivano il giovane Lucio Cesare, imparentato con lui, e il pretore Roscio, che gli portano delle comunicazioni private di Pompeo, il quale fondamentalmente dice a Cesare di non offendersi, che non c'è niente di personale, ma che lui sta combattendo in nome della Repubblica. Cesare prende atto del messaggio che gli è stato inviato da Pompeo attraverso questi due messi, non gli va bene, ma fa un nuovo tentativo per cercare di trovare un compromesso. Quindi dice fondamentalmente a Pompeo, attraverso questi stessi due messi, vuoi che io abbandoni le mie truppe? Abbandonale anche tu. Incontriamoci per un colloquio e cerchiamo di non fare guerra. Queste cose vengono dette a Pompeo, che si trova a capua con i due consoli, ma non hanno effetto. Infatti a Cesare viene detto ancora una volta che deve tornare in Gallia, abbandonare la città di Rimini, congedare le sue truppe. Se farà ciò Pompeo abbandonerà anche lui le sue truppe, altrimenti si penserà che Cesare vuole attaccare Roma. E qui Cesare praticamente ci dice che in questo istante, cioè in questa fase, sceglie di dare inizio a questa guerra. Dice, era un'ingiustizia pretendere che Cesare lasciasse Rimini e tornasse nella sua provincia, mentre lui, cioè Pompeo, manteneva le province e le legioni che non gli appartenevano. Volere che si congedasse l'esercito di Cesare e continuare per sé gli arruolamenti. Promettere che sarebbe andato nella sua provincia, ma non fissare la data della partenza. D'altra parte, il non offrire occasione per un colloquio e il non impegnarsi a venire lui stesso, cioè Pompeo, facevano assai disperare della pace. Per cui Cesare manda Marco Antonio ad Arezzo con cinque coorti, lui si ferma invece a Rimini, occupa Pesaro, Fano e Ancona, insomma, da inizio a questa guerra. Cesare quindi sta occupando le città del centro Italia e viene informato del fatto che Gubbio è occupata con cinque coorti da un certo Termo Pompeiano, per cui invia lì uno dei suoi uomini, Purrione, con tre coorti. Appena Termo viene informato dell'arrivo di queste truppe, abbandona Gubbio e quindi i cesariani entrano in città accolti dall'entusiasmo della folla. Cesare, informato di ciò, sentendosi quindi più tranquillo perché sente che il popolo è dalla sua parte, va alla volta di Osimo, occupata da Attio, che contemporaneamente sta arruolando uomini in tutto il Piceno. Appena vengono informati dell'arrivo di Giulio Cesare, i capi della città di Osimo, cioè i Decurioni, vanno da Attio, cioè Attio Varo, e gli dicono che, insomma, non si può lasciare fuori dalla città un personaggio come Cesare, vincitore di tante guerre. Quindi, Varo preoccupatissimo, anche lui fugge. Solo che in questo caso, le truppe di Attio Varo vengono inseguite, incalzate da quelle di Cesare, che catturano moltissimi uomini, tra cui un certo Lucio Pupio, che è un centurione primitilo. Cosa vuol dire questo? Allora, va innanzitutto detto che l'unità principale dell'esercito è la legione, della quale fanno parte dieci coorti, ognuna delle quali è costituita da tre manipoli. All'interno di ognuno di questi tre manipoli ci sono due centurie, ognuna delle quali conta circa 100 uomini. Alla testa di ogni centuria c'è un centurione. Quindi, all'interno di una legione ci sono 60 centurioni. Il centurione primitilo è il primo di tutti questi, quindi è senz'altro un militare di esperienza e che ha fatto tantissime guerre, insomma. Cesare, quindi, loda i soldati di Attio Varo, perché, tutto sommato, sono suoi concittadini. Questo accadrà tante altre volte. Lui ci mette sempre in chiaro che questa non è certo una guerra come quella gallica, in cui i suoi avversari erano veramente avversari, perché non erano suoi compatrioti, insomma. In questo caso, invece, Cesare cerca sempre di essere abbastanza mite, anche se non accadrà proprio sempre sempre. Manda via libero questo lucio pupio centurione primitilo, ringrazia gli abitanti di Osimo e dice loro che non dimenticherà quello che hanno fatto. Quando a Roma si sa quello che sta accadendo, si diffonde il panico, a tal punto che il console Lentulo apre la cassa dell'erario pubblico per dare dei soldi a Pompeo e poi fugge. Infatti si era diffusa la notizia falsa che Cesare fosse ormai alle porte della città. Tutti fuggono, anche il collega del console Lentulo, cioè Marcello, e nessun luogo al di qua di Capua sembra tranquillo. Cesare, intanto, parte da Osimo, attraversa tutto il Piceno, tutte le cittadine di quella zona lo accolgono con entusiasmo, addirittura arriva gente da Cingoli, che è una città che era stata completata a sue spese da Tito Labieno, che era un suo ex generale che era passato ora dalla parte di Pompeo. Cesare fa degli arruolamenti in questa zona e arriva nella città di Ascoli, che è occupata con dieci coorti da Lentulo Spintere, il quale Lentulo, come hanno fatto gli altri, appena sa dell'arrivo di Giulio Cesare, fugge. Fugge e si incontra con Vibullio Ruffo, inviato da Pompeo in quelle zone per cercare di risollevare un po' gli animi, perché effettivamente qui stanno fuggendo tutti i Pompeiani. Infatti si incontrano anche con Lucilio Irro, che sta fuggendo da Camerino, e con tutte queste truppe vanno verso Corfinio, dove c'è un altro Pompeiano, cioè Domizio Eno Barbo, con altre truppe. Gli annunciano che Cesare sta arrivando e iniziano a tagliare il ponte sul fiume che passa accanto alla città. Cesare, che intanto ha occupato fermo, perché Cesare non sta mai fermo e quindi deve occupare sempre qualche cosa, va verso Corfinio, proprio mentre i Pompeiani stanno cercando di tagliare il ponte. Gli ingaggia subito battaglia e fa in modo che il ponte invece resti sul fiume, perché i ponti nell'antichità erano veramente importantissimi. Un fiume, come si è già visto nella guerra gallica, poteva costituire veramente un ostacolo insormontabile. Cesare fa passare le sue truppe al di là del ponte e si accampa alle porte della città di Corfinio, all'interno della quale il capo dei Pompeiani, cioè questo domizio enobarbo, arringa le sue truppe e cerca di invogliarle a combattere promettendo addirittura terre di sua proprietà. Contemporaneamente invia in Puglia a Pompeo una lettera per chiedere degli aiuti. Se non lo avesse fatto, dice in quella lettera, egli stesso si sarebbe trovato in pericolo e con lui più di 30 coorti e un gran numero di senatori e di cavalieri. Mentre Cesare è accampato alle porte di Corfinio, una città degli Abruzzi dalle parti della piana del Fucino, gli viene detto che gli abitanti di Sulmona sono desiderosi di eseguire i suoi ordini, ma ne sono impediti dal senatore Quinto Lucrezio Vespillone, un Pompeiano che però dopo la battaglia di Farsaro si riconcilierà con Giulio Cesare, e da Attio Peligno, che sono lì con sette coorti. Allora Cesare manda a Sulmona Marco Antonio con cinque coorti e i sulmonesi, appena vedono le insegne di Giulio Cesare, aprono le porte della città e tutti vanno incontro a Marco Antonio. I Pompeiani, come già era accaduto negli altri casi, fuggono, o almeno tentano di farlo. Attio viene catturato e chiede a Marco Antonio di essere condotto da Giulio Cesare. Antonio torna con le sue coorti in quello stesso giorno e Giulio Cesare, come ha fatto in tutti gli altri casi, lascia andare libero Attio. Quindi Cesare sottolinea continuamente questa sua magnanimità e quindi dice implicitamente che lui questa guerra non la voleva fare, assolutamente. Mentre accadono i fatti di Sulmona, arrivano nuove forze per Giulio Cesare dalla Gallia e quindi Cesare inizia a circondare la città di Corfinio con dei fortilizi e proprio mentre sta per terminare questi lavori arriva la risposta di Pompeo. Domizio legge attentamente questa lettera e annuncia che presto Pompeo sarebbe arrivato con nuove forze. In realtà invece nella lettera viene detto esattamente l'opposto, cioè che Pompeo non può arrivare con nessuna truppa e che in pratica chiede a loro di farcela con le proprie forze. Quindi Enobarbo si incontra segretamente con pochi intimi e cerca di organizzare la sua fuga dalla città anche se poi invece cerca di esortare i suoi uomini a combattere contro Cesare. Fatto sta che in qualche modo l'informazione invece della progettata fuga arriva ai soldati che si riuniscono a loro volta e alla fine dopo alcuni incontri scelgono di catturare Domizio Enobarbo e di consegnarlo a Giulio Cesare. Quando Cesare sa di questi fatti sceglie di non entrare subito in città anche se pensa che sia importantissimo impadronirsi al più presto di Corfinio ma teme che con l'entrata dei suoi militi ci sia la possibilità di un saccheggio quindi lascia che passi la nottata e poco prima dell'alba l'entulo spintere con delle urla dalle mura chiede un colloquio con Giulio Cesare una volta di fronte a lui chiede di non essere ucciso Cesare lo interrompe e gli dice che non è uscito dalla sua provincia per far del male ma per difendersi dagli oltraggi e ovviamente assicura l'entulo che non lo ucciderà il quale l'entulo torna quindi all'interno delle mura la mattina dopo Cesare fa condurre presso di sé tutti i nobili che c'erano all'interno della città fra i quali ci dice c'erano Lucio Domizio Publio Lentulo Spintere Lucio Cecilio Ruffo Sesto Quintilio Varo e Lucio Rubrio e alla fine come al solito lascia tutti liberi si fa dare 6 milioni di sesterzi che erano stati portati all'interno della città come paga per le truppe glieli dà indietro si ferma a Corfinio per qualche altro giorno e poi parte alla volta delle Puglie attraverso le terre dei Marrucini dei Frentani e dei Larinati per incontrarsi finalmente con Pompeo invece noi se vorrete ci incontriamo domani su Radio 2 alle 8 della sera Pompeo in formato di quello che è avvenuto a Corfinio parte da Lucera per Canosa e arriva alla fine a Brindisi la città di Brindisi è un luogo importantissimo per tutto quello che vi accade questo può essere molto interessante per chi oggi abita lì quindi Pompeo fa concentrare presso di sé tantissime truppe e Cesare ci dice anche con senso dell'umorismo che arma schiavi e pastori e da loro cavalli forma un corpo di circa 300 cavalieri che appena vedono arrivare in lontananza la cavalleria di Cesare comandata da Vibio Curio abbandonano subito il pretore Rutilio Lupo per passare dalla parte di Cesare nel corso di alcuni scontri che avvengono dopo viene condotto presso Cesare un certo merio omaggio cremonese che è il capo del genio di Pompeo Cesare come ha fatto già in altri casi invece di arrestarlo lo lascia libero ma lo incarica ancora una volta di portare un'ambasciata a Pompeo il cui contenuto è sempre quello cioè è più interesse della Repubblica piuttosto che fare guerra cercare di fare dei colloqui per arrivare a un accordo aggiunge che non si ottengono certo gli stessi risultati parlandosi attraverso messi oppure parlandosi faccia a faccia quindi chiede un incontro a quattro occhi dopo aver affidato questo incarico importantissimo a questo maggio cremonese arriva quindi a Brindisi con una grandissima quantità di truppe che ci enumera cioè sei legioni di cui tre di veterani quelli che avevano combattuto con lui nelle guerre galliche e le altre invece messe insieme con le nuove leve viene a sapere arrivato a Brindisi che i consoli sono partiti per Durazzo in Albania con una gran parte delle truppe e che invece Pompeo è ancora nella città di Brindisi con venti coorti Cesare quindi pensa che Pompeo non vuole abbandonare Brindisi perché pensa che sia importante per controllare tutto il mare Adriatico scegli allora di bloccare il porto per fare in modo che Pompeo lo abbandoni e qui parte una descrizione delle opere che fa Cesare che se io fossi un Brindisino andrei subito a vedere con i miei occhi perché dice che nel punto in cui l'imboccatura del porto è molto stretta fa come una sorta di due moli perché l'acqua lì è abbastanza bassa invece in mezzo dove è troppo alta fa piazzare coppie di zattere di 30 piedi per ogni lato le fissa a ciascuno dei quattro angoli con un'ancora e poi piano piano ne aggiunge altre esattamente uguali e le copre di terra e di materiale da terra pieno in modo che fosse facile accedervi in caso di difesa le protegge poi sui quattro lati con gratticci e plutei e ogni quattro zattere fa innalzare delle torri a due piani per difendersi meglio dall'assalto delle navi e dagli incendi Pompeo ovviamente non può stare con le mani in mano e allestisce allora delle grosse navi da carico che ha preso nel porto sulle quali costruisce delle torri a tre piani che servono per essere avvicinate alle zattere che sta mettendo in acqua Cesare e cercare di impedire o anche solo rallentare questi lavori Cesare continua nelle operazioni di guerra benché si meravigli molto che non torni indietro Maggio cioè quel capo del genio di Pompeo che lui ha inviato appunto presso Pompeo per cercare di arrivare a un accordo e nonostante questi suoi tentativi ritardassero l'azione e i piani di guerra tuttavia Cesare pensava che era necessario perseverare in essi con ogni mezzo Cesare sceglie quindi di inviare un nuovo messo nella persona del legato Caninio Rebilo che è intimo amico di Scribonio Libone un partigiano pompeiano e gli dà sempre quell'incarico cioè quello di dire a Pompeo se si può fare un colloquio un colloquio a quattro occhi per arrivare a un accordo poco dopo questo nuovo messo torna indietro con la nuova risposta che è sempre uguale insomma c'è una nuova scusa ma è sempre quella essendo assenti i consoli non si possono trattare questioni di guerra per cui Cesare pensa che è arrivata l'ora di abbandonare questi frequenti evani tentativi e di occuparsi finalmente della guerra a tempo pieno quando Cesare è arrivato a circa metà delle sue opere di assedio e di insomma blocco del porto di Brindisi tornano indietro le navi inviate al di là del mare con le truppe e con i due consoli Pompeo quindi o perché è preoccupato dalle opere che ha messo in atto Cesare per assediarlo oppure perché questo era il suo piano fin dall'inizio organizza l'imbarco delle sue truppe che sono come abbiamo detto prima 12.000 uomini quindi per mettere in atto questo imbarco blocca tutta la zona intorno al porto con delle opere con delle mura con dei fossi e anche con dei pali e con dei tronchi a guzzi chiude quindi gli accessi al porto e le due strade che vi conducevano da fuori dalle mura e dopo queste opere fa imbarcare i suoi militi in silenzio e colloca sulle mura e sulle torri degli arcieri e dei frombolieri a intervalli molto larghi stabilendo di richiamarli con un segnale convenuto alla fine dell'imbarco di tutti gli altri lasciando per loro veloci navi in un luogo di facile accesso entrano in scena a questo punto gli abitanti di Brindisi che ci dice Cesare sono stanchi delle prepotenze dei soldati pompeiani e delle offese dello stesso Pompeo e fanno il tifo per Cesare quindi avvertono i soldati di Cesare che Pompeo sta per salpare e li avvertono anche delle fosse e dei pali a guzzi quindi i soldati di Giulio Cesare scalano le mura fanno un lungo giro e insomma alla fine catturano due navi cariche di soldati pompeiani a questo punto però Cesare non può inseguire Pompeo perché è senza navi quindi sceglie di non aspettare le navi che stanno arrivandogli dalle lontane coste della Gallia del Piceno e dallo stretto di Messina e di spostare invece il teatro della guerra in Spagna dove c'è il vecchio esercito di Pompeo manda dei suoi uomini in Sicilia e in Sardegna cioè Curione in Sicilia e Valerio in Sardegna addirittura gli abitanti di Cagliari appena sanno che sta per arrivare un uomo di Giulio Cesare di loro iniziativa scacciano invece Cotta che stava occupando la città per conto di Pompeo mentre Cesare per conto suo torna invece nella città di Roma dove in Senato fa una lunga orazione in cui come al solito ricorda i torti ricevuti dagli avversari e fondamentalmente chiede ai senatori di assumersi il governo della Repubblica e di amministrarla insieme a lui se essi si tireranno indietro egli dice non si sottrarrà a questo peso e amministrerà lo Stato tutto per conto suo inoltre propone di mandare degli ambasciatori a Pompeo per trattare e di non aver paura di quello che aveva detto quello cioè che mandare messi a qualcuno significa riconoscerne l'autorità e mostrare il timore del mittente invece egli dice come aveva cercato di essere superiore nelle azioni così vuole essere superiore in giustizia e in equità Pompeo poco prima di abbandonare Roma aveva detto che avrebbe tenuto nello stesso conto quelli che fossero rimasti in città e quelli che si fossero trovati nell'accampamento di Giulio Cesare per cui sebbene venga approvata la proposta di Giulio Cesare di inviargli degli ambasciatori tuttavia non si trova chi inviare perché hanno tutti FIFA allora si perde molto tempo in più viene corrotto un tribuno della plebe che si chiama Lucio Metello che fa perdere ulteriore tempo alla fine Cesare manda a monte tutto e parte per la gallia ulteriore l'aggiunto apprende che Pompeo ha inviato in Spagna Vibullio Ruffo che Cesare aveva catturato nell'assedio di Corfinio e aveva poi mandato libero e che allo stesso modo Domizio Enobarbo anche lui liberato da Giulio Cesare alla fine dell'assedio di Corfinio era partito invece per occupare Marsiglia con sette navi degli ambasciatori cioè dei giovani marsigliesi nobili inviati da Pompeo in città hanno dato istruzioni di chiudere le porte della città a Giulio Cesare in più i marsigliesi hanno trasportato in città cibo e organizzato delle fabbriche di armi insomma stanno preparandosi all'assedio allora Cesare decide di chiamare da Marsiglia 15 primati che non sono delle scimmie ma sono i più alti capi insomma della città Cesare tratta con questi primati perché non venga dai marsigliesi l'iniziativa della dichiarazione di guerra questi tornano in città e poi tornano da Giulio Cesare con la loro risposta capiscono che il popolo romano è diviso in due partiti non spetta a loro giudicare quale di essi sostenga la causa più giusta e quindi scelgono di tributare un'eguale riconoscenza a tutte e due e di non aiutare nessuno di loro contro l'altro né di accoglierlo nella città o nei porti quindi cercano di essere neutrali mentre si dicono queste belle cose arriva con la sua flotta a Marsiglia Domizio e Nobarbo che viene accolto dagli abitanti e messo a capo del governo della città e a lui si affida il comando supremo della guerra Cesare è ovviamente esterrefatto da questo comportamento per cui chiama a sé una gran quantità di truppe e da ordine di iniziare la costruzione delle opere di assedio che sono quindi torri e vinee che sono delle macchine da assedio che si muovono su dei rulli che poi sono sempre delle tettoie insomma per andare sotto alle mura e non farsi colpire dalle frecce in più fa allestire ad Arl sulle rive del fiume Rodano dodici navi da guerra ci dice Cesare che per approntare queste navi vengono impiegati 30 giorni contando dal giorno in cui vengono abbattuti gli alberi quindi pochissimo tempo da il comando di questa flotta a Decio Bruto che è proprio quel brutto della congiura delle Idi di Marzo e in più lascia il legato Gaio Trebonio ad assediare Marsiglia mentre fa tutto questo da ordine a un altro suo generale cioè il legato Gaio Fabio con tre legioni di partire alla volta della Spagna e di occupare innanzitutto i valichi dei Pirenei che in quella fase erano occupati con dei presidi dal generale Pompeiano Lucio Afranio Gaio Fabio prontamente scaccia i presidi Pompeiani e occupa i valichi dei Pirenei i generali di Pompeo in Spagna sono Afranio Petreio e Varrone quest'ultimo più celebre per i suoi libri che per le sue imprese militari a Varrone viene dato il compito di controllare tutta la Spagna ulteriore cioè quella più lontana mentre Petreio e Afranio si congiungono raccolgono nuove forze e decidono di condurre le operazioni militari nelle vicinanze della città di Ilerda il cui nome attuale è Lerida in Catalogna sulle rive del fiume Segre l'antico Sicoris le forze sono queste Afranio ha tre legioni mentre Petreio ne ha due inoltre ci sono circa 30 cohorti fra quelle della Spagna citeriore e quelle della Spagna ulteriore munite di scutum che è un grosso scudo del diametro di circa un metro e mezzo incurvato a semicilindro e di cetra che invece è un piccolo scudo del diametro di circa mezzo metro simile alla cetra greca Cesare invece aveva inviato in Spagna sei legioni in più aveva delle truppe ausiliare che comprendevano circa 6.000 fanti e 3.000 cavalieri che avevano servito sotto di lui in tutte le guerre galliche oltre a dei cavalieri aquitani e altre forze ancora quindi la situazione a questo punto è questa i pompeiani sono accampati nella città di Ilerda e possono far conto su un ponte in pietra sul fiume Sicoris invece le truppe di Cesare al comando di Fabio sono accampate poco lontano e Fabio ha fatto costruire due ponti in legno sempre sul fiume Sicoris uno detto Pons Propior nei pressi del proprio campo e uno invece 4 miglia più a settentrione detto Pons Ulterior due giorni dopo arriva al campo di Fabio Cesare con una scorta di 900 cavalieri Cesare assume il comando delle sue truppe e muove alla volta degli avversari che si erano accampati non in città ma in un colle accanto alla città quando Cesare si rende conto che il comandante avversario cioè Afranio non vuole attaccare cioè non ha intenzione di combattere pensa di accamparsi poco lontano dagli avversari a circa 400 passi dalle falde del colle e lo fa con un trucco cioè tiene le prime due file del suo esercito in piedi e alla terza fila dà l'ordine di scavare una fossa che è quella che servirà per circondare il suo accampamento quindi verso sera Cesare riconduce le sue truppe all'interno delle fortificazioni e gli avversari non possono più attaccarli il giorno dopo trattiene tutte le sue truppe al di qua della fossa e cerca di terminare le fortificazioni del suo accampamento gli avversari cercano di avvicinarsi all'accampamento per impaurirli e impedire quindi la costruzione delle fortificazioni ma non ce la fanno quindi in tre giorni Giulio Cesare fortifica il suo campo con una palizzata e fa arrivare le altre cohorti che erano state lasciate nel vecchio accampamento molto più lontano fra il Erda e il colle di Gardeni dove sono accampati i Pompeiani Cesare ci dice che c'è una pianura di circa 300 passi in mezzo alla quale c'è una collinetta Cesare pensa che se occupa quella collinetta impedisce il collegamento fra l'accampamento e la città e quindi ha buone chance di vincere questa battaglia allora dà ordine agli antessignani di correre per occupare quest'altura ma la manovra non passa inosservata e i Pompeiani impediscono alle truppe di Cesare di occupare questa piccola collina ma queste sono solo le avvisaglie della battaglia che sta per avere luogo e che ascolterete domani su Radio 2 alle 8 della sera inizia quindi la battaglia di Ilerda in Spagna sul fiume Sicoris e i soldati Pompeiani cioè i soldati di Afranio combattono in un modo strano cioè si spingono avanti con grande impeto si preoccupano poco di mantenere le loro file e combattono in ordine sparso questo perché ci dice Cesare sono influenzati dagli usi dei barbari che abitano quelle zone in cui loro stanno da tanto tempo questa tattica getta lo scompiglio fra le truppe di Giulio Cesare che non sono abituati a combattere in questo modo e che anzi sono abituati ad abbandonare la loro posizione solo per motivi molto gravi per cui gli antesignani cioè quei militi che sono ai primi posti e che portano le insegne vengono scompigliati da questa tattica degli afraniani e le truppe retrocedono un po' Cesare vedendo che le sue truppe sono un po' in crisi manda in aiuto la nona legione quindi il nemico non solo si arresta ma viene ricacciato indietro fino alle mura della città purtroppo però per Cesare i suoi militi sono talmente entusiasti di questo successo che si spingono troppo avanti e alla fine si trovano in una posizione svantaggiosa perché sono sotto agli avversari che sono saliti un po' sul colle della città e quindi da questo punto in poi iniziano a essere colpiti dalle frecce che vengono lanciate dall'alto dai Pompeiani per cui gli esiti della battaglia volgono prima a vantaggio dei Pompeiani poi un po' a vantaggio dei Cesareani vengono mandate sempre nuove truppe sia da una parte che dall'altra per dare nuova forza alla lotta e si continua così per cinque ore senza tregua si arriva al punto che i soldati restano senza proiettili e senza frecce allora i Cesareani si lanciano con le spade sguainate verso il monte dove ci sono gli avversari e li ricacciano indietro e li costringono a rientrare nella città quindi possono ritirarsi tranquillamente nell'accampamento e alla fine della giornata si contano 70 morti fra le file dei soldati di Giulio Cesare e fra questi quinto fulginio centurione del primo manipolo degli astati della quattordicesima legione che ci dice Cesare era arrivato a quella carica dai gradi inferiori grazie al suo straordinario valore mentre fra gli afraniani si contano 4 centurioni e più di 200 soldati morti alla fine di quella giornata di combattimenti tutte e due le parti sono convinte di essere uscite vittoriose i afraniani perché sebbene più deboli sulla carta hanno obbligato i cesariani a combattere per 5 ore e invece le truppe di Cesare perché pur trovatesi in posizione sfavorevolissima hanno ricacciato gli avversari fra le mura della loro città due giorni dopo accade un improvviso incidente di quelli che Cesare cataloga sotto la voce fortuna cioè scoppia un temporale violentissimo che provoca una pena del fiume Sicoris talmente forte che abbatte in un giorno solo i due ponti in legno che erano stati costruiti da Gaio Fabio questo provoca il fatto che le truppe di Cesare si ritrovano confinate in un piccolissimo spazio e quindi hanno poco cibo mentre invece i afraniani hanno tantissimo cibo oltretutto Cesare non è in grado dato che la piena del fiume si prolunga per tanti giorni di ricostruire i due ponti per cui giunge improvvisamente ad Afranio l'informazione che una grande quantità di approvvigionamenti che erano destinati a Cesare era ferma sulla riva del fiume allora pensa di poter annientarli parte in piena notte con tutta la cavalleria ma fortunatamente per Cesare i cavalieri galli che fanno parte di questa quantità di uomini che sono in attesa sulla riva del fiume senza nessun ordine insomma i cavalieri galli tengono testa alla cavalleria degli afraniani per un tempo sufficiente a far sì che quasi tutti si mettano in salvo sulle cime dei monti circostanti per cui in quel giorno si perdono solo circa 200 arcieri tuttavia sebbene molti si siano messi in salvo quegli aiuti non sono arrivati a Cesare per cui il prezzo del grano cresce tantissimo anche fino a 50 volte il suo prezzo che era di un denario al moggio per cui le truppe di Cesare non hanno cibo e Cesare stesso cercava di fronteggiare la carestia come poteva per cui immagino che mangiasse poco tutte queste cose vengono comunicate a Roma come al solito vengono ingigantite e tutti pensano che oramai Cesare abbia perso e che invece Afranio e Petreio abbiano vinto la guerra per cui tutti vanno alle loro case per congratularsi e addirittura alcuni si mettono in viaggio per andare verso l'accampamento di Pompeo per non dare l'impressione di averlo fatto solo dopo che era arrivata l'informazione della vittoria di Pompeo spinto dalla fame e con tutte le vie bloccate dagli Afraniani e nell'impossibilità di ricostruire i ponti Cesare ha un'intuizione cioè ordina di allestire delle navi del genere di quelle che aveva usato nel corso dello sbarco in Britannia cioè delle navi molto leggere conchiglia e ossatura in legno e il resto dello scafo in vimini finita la costruzione delle quali le trasporta su dei carri 22 miglia lontano dagli accampamenti con queste navi fa transitare al di là del fiume delle sue truppe che occupano subito un colle prima che arrivino gli Afraniani costruisce in due soli giorni un ponte sul fiume Sicoris e grazie a questo ponte fa incetta di cibo al di là del fiume affronta dei brevi combattimenti con gli avversari e poi torna in colme grazie a questo nuovo ponte al di qua del fiume con un grande bottino mentre in Spagna accadono questi fatti Cesare ci riconduce a Marsiglia come in un film dove i marsigliesi stanno allestendo una flotta di 17 navi di cui 11 con coperta a cui aggiungono molte altre navi più piccole solo con l'obiettivo di fare un grande numero insomma muovono alla volta della flotta di Decio Bruto che è ancorata presso l'isola che sta di fronte alla città l'isola di Ratonno Bruto ha una flotta che conta molte meno navi però Cesare gli ha assegnato gli uomini più forti scelti fra gli antesignani fra i centurioni più validi tutti armati di uncini di arpioni di giavellotti e di tragole che sono dei giavellotti forniti di una cinghia accortisi dell'avvicinamento della flotta marsigliese gli uomini di Giulio Cesare che hanno delle navi molto più lente perché sono state fatte con del legno verde e quindi pesano troppo affrontano gli avversari che li superano anche in quantità combattendo ci dice Cesare anche una nave contro due fatto sta che al termine della giornata i marsigliesi contano nove navi perse calcolando anche quelle catturate con un velocissimo flash però di duemila anni fa Cesare ci riporta allora in Spagna dove ringalluzzito dalle informazioni sul trionfo di Decio Brutto e rincuorato dal nuovo ponte che ha appena fatto si rende conto che la fortuna ora gli sta sorridente infatti gli afraniani atterriti dal valore delle sue truppe ora non possono più andare in giro a cercare cibo con tranquillità e si rifugiano all'interno delle mura della città contemporaneamente alcuni popoli della zona si alleano con Giulio Cesare e questa è la parte del libro forse che mi piace più di ogni altra perché si possono fare i nomi degli oscensi dei calagurritani dei tarragonesi degli iacetani degli ausetani e pochi giorni dopo anche degli illurgavonesi che non solo si alleano con Cesare ma gli garantiscono anche grandi quantità di cibo Cesare inizia intanto delle ulteriori opere cioè scava delle fosse poco fuori dal fiume Sicoris e all'interno del fiume per cercare di creare un guado e per deviare il corso del fiume terminate le quali opere gli afraniani sono talmente certi ormai di essere battuti che scelgono di trasferire il teatro della battaglia in un'altra zona cioè in Celtiberia il problema di Giulio Cesare a questo punto è che il guado che ha realizzato sul fiume Sicoris consente il passaggio alla cavalleria ma non ai fanti per cui quando i pompeiani partono Cesare dà ordine alla cavalleria che guadi il fiume e la lancia all'inseguimento degli avversari nel tentativo di fiaccarlo con degli assalti era impossibile infatti lanciare contro i suoi avversari tutte le truppe perché il ponte sul fiume come abbiamo detto era lontano 22 miglia da quel punto all'alba si vede dalle alture che le ultime file degli affraniani sono incalzati dai cavalieri di Cesare allora i soldati stessi di Cesare iniziano a lamentarsi che ci si sta lasciando sfuggire il nemico e che si sta trascinando la guerra più a lungo del necessario mandano quindi dei loro messi a Giulio Cesare per dirgli che non deve assolutamente risparmiare loro fatiche e pericoli perché sono pronti possono e vogliono attraversare il fiume nel punto in cui è passata la cavalleria allora Cesare ordina di scartare da tutte le centurie i soldati più deboli effettua il guado del fiume con la maggior parte del suo esercito e prima dell'ora nona cioè tra le tre meno un quarto e le quattro del pomeriggio dà l'ordine alle sue truppe di partire all'inseguimento degli afraniani quando Afranio e Petreio scorgono da lontano le truppe di Cesare che stanno arrivando non aspettandoselo assolutamente e sconvolti si fermano su un'altura e schierano le proprie truppe in ordine di battaglia Cesare non attacca battaglia perché sa che le sue truppe invece sono molto stanche perché hanno fatto questo inseguimento ma poiché gli avversari tentano di rimettersi in marcia Cesare li insegue ancora e ritarda il loro cammino questo li obbliga ad accamparsi più presto di quello che avevano pensato infatti c'erano dei monti e loro stavano pensando di accamparsi all'interno di queste gole per cercare di impedire il passaggio all'esercito di Giulio Cesare però stanchi da un'intera giornata di combattimenti e dalla fatica della marcia rimandano questa mossa all'indomani soddisfatto della cosa allora anche Cesare si accampa sul colle più vicino nell'accampamento pompeiano Petreio e Afranio discutono in consiglio sull'ora più adatta alla partenza alcuni sono dell'opinione di avviarsi alla notte perché con il buio è più facile andarsene altri invece pensano che si debbano evitare le battaglie notturne perché un soldato impaurito in una guerra civile obbedisce più al timore che al giuramento invece la luce del giorno genera un senso di vergogna perché il soldato è esposto agli sguardi di tutti quindi secondo questi ultimi è necessario aprirsi la strada di giorno perché ci sarebbero state delle perdite però con la gran parte dell'esercito in salvo si sarebbe potuta occupare la posizione che volevano raggiungere questo parere prevale in consiglio e stabiliscono di partire il giorno dopo all'alba l'obiettivo degli afraniani è quello di arrivare al fiume Ebro dove ci sono tutti i approvvigionamenti e i rinforzi Cesare si rende conto che deve fare un largo giro per arrivare lì e allora all'alba conduce tutte le truppe fuori dal campo e guida le sue truppe dalla parte opposta a quella che porterebbe al fiume Ebro e qui è interessante leggere almeno una parte del libro perché mi sembra che Giulio Cesare si infervori e per la prima volta non parla più in terza persona ma dice sulle prime i soldati di Afranio uscivano euforici dal loro campo per vederci e ci accompagnavano con parole ingiuriose dicendo che costretti dalla mancanza dei viveri necessari fuggivamo e tornavamo verso Ilerda ma quando videro che a poco a poco la nostra colonna piegava a destra e scorsero che i primi già oltrepassavano la linea del loro campo nessuno fu così lento e pigro da non pensare che bisognava uscire immediatamente dall'accampamento e prevenire il pericolo insomma Giulio Cesare ha messo nel sacco le truppe degli avversari e ora la loro guerra si è trasformata in una gara di velocità per arrivare per primi al fiume Ebro le truppe di Cesare giungono per prime all'obiettivo Cesare trova un luogo piano e vischiera il suo esercito Afranio la cui retroguardia intanto era sempre incalzata dalla cavalleria di Giulio Cesare giunge presso un colle e lo occupa da quel punto cerca di mandare quattro corti di cetrati di cui si era parlato prima a occupare un monte la cavalleria di Giulio Cesare però si accorge della mossa circonda questi combattenti e li uccide tutti senza che le truppe di Afranio vengano in loro aiuto si presenta quindi per Cesare finalmente l'occasione di compiere l'impresa il morale dei suoi soldati è alle stelle e gli avversari invece danno segni di paura di demoralizzazione non abbandonano il loro colle e certo sono in una posizione più favorevole per il combattimento però sono senza acqua quindi Cesare attende che questi scendano per affrontarli in un luogo invece a lui più favorevole questa situazione permette inoltre a Cesare di concludere la sua campagna senza combattere e senza versare il sangue dei suoi concittadini quindi anche contro il volere dei suoi stessi soldati si allontana un po' dal colle per permettere agli afraniani di rientrare nel loro accampamento costruisce un accampamento il più vicino possibile a quello degli afraniani e se volete sapere come continua questa storia ascoltatemi domani su Radio 2 alle 8 della sera siamo arrivati al punto in cui Cesare pur certo della sua vittoria ha risparmiato la vita degli avversari cercando come si è detto di non ammazzare dei suoi concittadini Petreio e Afranio sono costretti ad allontanarsi dall'accampamento per costruire un vallo che li colleghi al punto in cui si può prendere l'acqua e allora i soldati approfittando dell'assenza dei loro capi escono in massa dall'accampamento per ringraziare i soldati avversari di quello che era accaduto il giorno prima perché era grazie alla loro generosità se essi erano ancora vivi si informano sulla lealtà di Giulio Cesare si dolgono di non avere combattuto per lui fin dalle prime fasi chiedono a Giulio Cesare la garanzia della vita dei loro capi cioè di Petreio e di Afranio e quando viene data loro questa assicurazione promettono di passare immediatamente a Cesare e gli mandano addirittura come messi per trattare la pace i centurioni di grado più elevato e qui improvvisamente accade l'incredibile cioè degli afraniani portano dei soldati di Giulio Cesare nel loro accampamento per banchettare e accade anche l'inverso insomma tanto che sembra che i due accampamenti si siano fusi in uno solo addirittura si giunge al punto che il giovane figlio di Afranio tratta con Cesare della sua vita e di quella del padre insomma Cesare coglie il frutto della clemenza che aveva mostrato il giorno prima e il suo comportamento ora viene approvato da tutti quando sanno quello che è accaduto Afranio e Petreio hanno dei comportamenti opposti Afranio torna nell'accampamento e sembrerebbe disposto a sopportare qualunque cosa Petreio invece arma i suoi propri schiavi con i suoi pretoriani e con le sue guardie del corpo che con un bellissimo nome vengono detti in latino satellites cioè satelliti si lancia d'improvviso verso il suo accampamento tronca i colloqui dei soldati caccia i soldati di Giulio Cesare dal suo accampamento uccide tutti quelli che cattura mentre gli altri atterriti dall'improvviso pericolo si avvolgono il braccio sinistro nel mantello perché sono senza scudo sguainano la loro spada e cercano di rietrare nel proprio accampamento Petreio insomma non vuole arrendersi assolutamente piangendo gira fra le sue truppe e obbliga tutti a giurare che non si arrenderanno neanche loro e a non far sì che venga consegnato a Cesare né lui e neanche il loro generale Pompeo che è assente ordina che chiunque abbia presso di sé un soldato avversario lo consegni immediatamente tutti quelli che vengono consegnati sono uccisi di fronte a tutti ma la maggior parte dei soldati di Cesare sono tenuti nascosti e nel corso della notte vengono trasferiti nel loro accampamento insomma la crudeltà di questo massacro e il terrore fanno svanire la speranza di una resa immediata e si torna quindi al precedente stato di guerra Cesare invece fa cercare con grandissima cura i soldati avversari li lascia liberi ma alcuni tribuni e centurioni chiedono espressamente di rimanere presso di lui Giulio Cesare ci dice che terrà per sempre in grande onore questo comportamento gli avvenimenti degli ultimi giorni però hanno provocato un'ulteriore conseguenza e cioè ancora una volta i pompeiani non si possono rifornire d'acqua per cui dato che non possono più stare lì perché non hanno neanche cibo scelgono di andarsene non possono andare a Tarragona sul Lebro perché è troppo lontana allora tornano verso Ilerda Cesare continua con la sua tattica di sfinimento della retroguardia degli avversari con assalti di cavalleria e il combattimento si svolge in questo modo cioè ogni volta che c'è un monte i pompeiani fin quando salgono sono in posizione vantaggiosa perché sono più alti dei loro avversari e quindi possono attaccarli con le loro frecce ma quando scendono invece soffrono moltissime perdite allora sono obbligati a sferrare degli attacchi contro i loro avversari quando arrivano sul punto più alto del monte e poi correre velocemente e arrivare sulla cima del monte successivo prima di essere raggiunti dalla cavalleria ovviamente questo provoca un'avanzata molto lenta e faticosissima vanno avanti quel giorno solo per 4 miglia molestati senza tregua dalla cavalleria occupano una collina e vi fortificano il loro campo in fretta e furia quindi solo dal lato che fronteggia gli avversari i Pompeiani in una situazione evidentemente disperata quando vedono che l'accampamento di Cesare è ormai pronto cercano di approfittarne e si rimettono improvvisamente in marcia allora Cesare riparte in tutta fretta anche lui li insegue li incalza e obbliga i Pompeiani ad accamparsi ancora una volta in malo modo insomma commettendo continui errori ma Cesare ci dice che preferiva vederli tormentati da queste pene e costretti a piegarsi alla resa piuttosto che combattere con loro sempre per i motivi che ho detto prima cioè non voleva versare il sangue dei suoi concittadini i Pompeiani messi alle strette da ogni parte senza più acqua né cibo per sé e per le loro bestie senza la possibilità di muoversi chiedono infine un abboccamento possibilmente non in presenza dei soldati Cesare invece pretende che l'incontro avvenga in un luogo da lui scelto e in presenza dei soldati chiede il figlio di Afranio come ostaggio e una volta giunti nel luogo dell'appuntamento parla Afranio il quale dice che non possono essere incolpati per essersi mantenuti fedeli al loro generale Pompeo d'altra parte non possono più resistere né al dolore fisico né all'umiliazione per cui si dichiarano vinti però implorano di avere salva la vita Cesare dice che non era certo lui che aveva voluto combattere e la prova sta nel fatto che sebbene in posizione favorevolissima abbia avuto la possibilità di batterli non lo ha fatto non va incolpato né il suo esercito né quello dei Pompeiani che ha anzi dato prova in assenza dei suoi capi di voler passare sotto Cesare per cui gli unici colpevoli di tutto ciò sono i capi tutto quello che Cesare chiede è il congedo degli eserciti tutto quello che è avvenuto in questi ultimi giorni non ha certo l'obiettivo di pacificare la Spagna bensì è stato fatto tutto contro di lui cioè tutto contro Giulio Cesare tuttavia egli ha pazientemente tollerato questi oltraggi ed è disposto a tollerarli ancora non mira a togliere loro quelle truppe per mantenersele per sé vuole solo che vengano congedate in modo che non le usino più contro di lui questa è la sola e estrema condizione di pace posta da Giulio Cesare queste parole provocano grandi manifestazioni di giubilo fra i soldati che mentre si aspettavano la giusta punizione invece ricevono il premio del congedo Cesare non dice cosa ne è di Petreio e Afranio ma immagino che li lasci liberi perché lascia liberi tutti fatto sta che con questi avvenimenti termina il primo libro della guerra civile mentre mentre quindi in Spagna si conclude questa serie di battaglie a Marsiglia il legato Gaio Trebonio sta iniziando l'assedio della città che Cesare ci dice essere difficilissimo perché Marsiglia è circondata per circa tre lati dal mare e l'unico lato assediabile è di difficile assalto a causa di una valle profondissima quindi Gaio Trebonio fa arrivare nella zona una grandissima quantità di materiale di legname di terra e di bestie da Soma e fa elevare un terrapieno alto 80 piedi ma i marsigliesi erano prontissimi a essere assediati per cui hanno delle armi potentissime che sfondano qualsiasi tipo di tettoia accostata alle loro mura per cui i soldati di Giulio Cesare sono obbligati ad avvicinarsi alle mura con gallerie formate da travi dello spessore di un piede sotto le quali si fanno passare di mano in mano il materiale per il terrapieno inoltre precedeva per spianare questo terreno una testugine di 60 piedi costruita anch'essa con legno resistentissimo e rivestita di qualsiasi tipo di materiale che poteva proteggerla da proiettili incendiari e dalle pietre che venivano gettate dall'alto delle mura ogni tanto i marsigliesi stessi tentano delle sortite contro i soldati di Cesare che stanno preparando le opere di assedio ma vengono respinti con facilità all'interno delle mura intanto Pompeo che ricordiamocelo è in Albania invia un suo uomo Lucio Nasidio con 16 navi in aiuto di Domizio e dei marsigliesi questa flotta di 16 navi attraversa lo stretto di Sicilia senza che Curione possa prevederlo a proda a Messina e nel fuggifuggi generale cattura dall'arsenale una nave dell'esercito di Giulio Cesare quindi con la sua flotta di 16 navi più quella che ha catturato arriva a Marsiglia dove avverte i marsigliesi del suo arrivo e li sprona a combattere con nuova forza gli marsigliesi dopo essere stati battuti da Decio Brutto hanno riallestito una nuova flotta arrivando allo stesso numero di navi della vecchia flotta le hanno equipaggiate con moltissima cura hanno aggiunto anche delle altre barche più piccole proprio come nel caso precedente e quando viene allestita in questo modo questa nuova flotta mossi dalle preghiere e dal pianto di tutti di quelli che rimanevano in città cioè vecchi madri vergini vengono scongiurati di soccorrere nell'estremo pericolo la città e quindi salgono sulle navi con un coraggio e una fiducia non inferiori a quelle della battaglia precedente ci dice Cesare infatti che è un grande psicologo che per difetto comune della nostra natura avviene che nelle situazioni eccezionali e del tutto nuove noi siamo più fiduciosi oppure più profondamente spaventati e questo accadde allora infatti l'arrivo degli aiuti di Pompeo aveva acceso grandissime speranze negli abitanti di Marsiglia che approfittando di un vento favorevole quindi escono dal porto si uniscono presso la città di Tauroento a Nasidio e muovono verso la flotta di Decio Brutto l'ala destra viene affidata ai Marsigliesi mentre l'ala sinistra viene affidata a Nasidio intanto anche Brutto ha cresciuto la sua flotta infatti alle navi che erano state fatte costruire da Giulio Cesare ad Arla per la prima battaglia si erano aggiunte le sei prese ai Marsigliesi in realtà Cesare ci aveva detto nove ma evidentemente tre sono affondate che vengono aggiustate esattamente come hanno fatto i Marsigliesi ed equipaggiate di tutto punto quindi Brutto anima i suoi uomini a non aver paura di un avversario che era stato ormai vinto quando era nel pieno delle sue forze e accade che dall'accampamento quindi di Gaio Trebonio e dalle alture tutto intorno alla città si vedono tutti quelli che sono chiusi fra le mura che tendendo le mani al cielo entrano nei templi degli dei immortali e inchinati di fronte alle statue implorano gli dei di vincere questa battaglia ci dice Cesare che i Marsigliesi combattevano con tale disposizione d'animo che sembrava non dovessero avere nessun'altra occasione per tentare la sorte infatti pensavano che mettendo a rischio la propria vita in battaglia non avrebbero preceduto di molto il destino degli altri cittadini accade allora come nella battaglia precedente che le navi di Decio Brutto sono molto lente e quindi tutte le volte che una nave di Brutto ne attacca una Marsigliese altre navi vengono in aiuto di quella che è attaccata e quindi per qualche tempo si va avanti con questo schema finché accade che due navi Marsigliesi anzi due Triremi cercano di attaccare quella di Decio Brutto che era facilmente riconoscibile per la sua bandiera intuita però questa mossa Brutto fa allontanare velocemente la propria nave in modo da acquisire un vantaggio minimo che fa sì che quelle due navi che stavano avvicinandosi alla sua da direzioni opposte invece di colpire la sua nave si scontrano fra loro stesse ambe due vengono attaccate istantaneamente dalle altre navi di Decio Brutto e vengono affondate il fatto però che si dimostra poi risolutivo per l'esito di questa battaglia è che le navi inviate da Pompeo cioè le navi comandate da Nasidio non prestano nessun aiuto perché infatti non hanno la stessa disposizione d'animo di quelle dei Marsigliesi perché non è certo in gioco la sorte della propria patria o della propria città e quindi si allontanano senza combattere accade perciò che al termine della giornata cinque navi dei Marsigliesi sono affondate quattro vengono catturate una fugge insieme alle navi di Nasidio e una delle navi che non vengono affondate va a comunicare la notizia dell'esito della battaglia ai Marsigliesi e ci dice Cesare che quando i Marsigliesi sono informati di essere stati battuti si levarono tali urla dalla città che sembrava che fosse stata catturata proprio in quell'istante tuttavia i Marsigliesi non si perdono d'animo e continuano a prepararsi per l'assedio intanto le truppe di Gaio Trebonio si rendono conto che può essere molto utile per la loro azione di assedio costruire una torre di mattoni che serva da fortino e dal rifugio in caso di attacco degli avversari inizialmente la fanno bassa e piccola ma Cesare non ci dice come facciano voi immaginatevi della gente che tenta di fare una torre con delle pietre e con dei mattoni mentre è sottoposta al lancio di pietre dall'alto delle mura o di proiettili incendiari evidentemente si saranno serviti delle solite tettoie mobili ma ci dice Cesare poiché l'esperienza è maestra in ogni cosa quando ad essa si aggiunge l'ingegno dell'uomo si accorsero che sarebbe stato molto meglio aumentare l'altezza di questa torre e qui Cesare ci spiega minuziosamente come hanno fatto e consiglio assolutamente di leggere questa pagina particolarmente se siete degli ingegneri o degli architetti perché è veramente interessante allora dice che quando l'altezza della torre arrivò al tavolato del primo piano inizialmente gettarono due travi con l'accortezza di non fare sporgere una parte delle travi all'esterno perché queste travi erano in legno e quindi potevano essere facilmente incendiate dagli avversari poi sempre protetti cercano di alzare il primo piano e come fanno per proteggersi in modo efficace da tutti questi proiettili fabbricano tre stuoie con le funi delle ancore larghe quattro piedi e alte quanto i muri della torre dice Cesare che questa era l'unica protezione che consentiva di lavorare con una certa tranquillità sui tre lati che erano sottoposti all'azione dei massigliesi innalzano in questo modo pensate una torre di sei piani con l'accortezza di lasciare delle aperture per il lancio dei proiettili nei punti più opportuni e se volete conoscere l'esito e l'efficacia di questa torre ascoltatemi domani alle otto della sera su Radio 2 i soldati di Giulio Cesare stanno assediando Marsiglia e hanno costruito una torre alta sei piani ora si apprestano invece a costruire una galleria solidissima lunga 60 piedi che vogliono far arrivare dalla torre di sei piani fino alla torre degli avversari e Cesare ci descrive ancora una volta minuziosamente la costruzione di questa galleria che è molto più solida di quella che era stata fatta precedentemente innanzitutto ci dice vengono collocate a terra due travi della stessa lunghezza distanti tra loro quattro piedi in esse piantano delle colonnette alte cinque piedi uniscono queste con dei cavalletti leggermente inclinati per poggiarvi le travi che formano il tetto della galleria che hanno uno spessore di due piedi che quindi è il doppio dello spessore delle travi che erano state utilizzate per la galleria precedente ricoprono questa galleria di mattoni e di fango il tetto della galleria quindi è leggermente inclinato e al di sopra vengono stese delle pelli per impedire che l'acqua mandata giù per mezzo di tubi dagli assediati disgregasse l'ammattonato coprono poi tutto con dei materassi per far sì che la galleria non fosse danneggiata dal fuoco e dai sassi improvvisamente avvicinano questa galleria alle mura con quelle che Giulio Cesare chiama macchine navali che effettivamente invece sono quei rulli che si usano anche al mare attualmente per far scendere in acqua le barche e quindi immaginatevi gli assediati che vedono lentamente avvicinarsi alle mura delle opere che mettono in pericolo la loro stessa vita e cercano con ogni forza di far sì che i soldati di Cesare non arrivino al loro scopo quindi buttano qualsiasi cosa dalle mura macigni enormi che però scivolano sulla galleria che come ho detto prima è leggermente pendente allora danno fuoco a barilli pieni di pece e di resina buttandoli su questa galleria che però non sortiscono nessun effetto perché vengono allontanati con delle pertiche e con dei forconi intanto sotto a questa galleria i soldati di Cesare stanno freneticamente cercando di smuovere con delle leve le pietre più basse della torre degli avversari che ne formano quindi le fondamenta contemporaneamente dalla torre di sei piani che era stata costruita precedentemente i cesariani allontanano dalle mura quelli che cercano di ostacolare quest'opera di assedio accade insomma improvvisamente che la torre dei marsigliesi crolla quando vedono questo gli assediati atterriti dall'idea di un saccheggio escono dalle porte della città senza armi con il capo avvolto nelle bende sacre che sono delle bende di lana bianche o rosse che servivano come simbolo insomma di resa e si precipitano tutti fuori dalla porta tendendo le mani e supplicando gli avversari di non ucciderli di fronte alla vista dei marsigliesi che si arrendono si interrompono tutte le azioni di battaglia e di assedio e tutti vogliono sapere cosa sta accadendo i marsigliesi giunti al cospetto di Trebonio si gettano ai suoi piedi e pregano che si aspetti l'arrivo di Giulio Cesare che non era ancora arrivato questo chiedono perché sanno che se la torre verrà completamente abbattuta sarà impossibile frenare l'impeto dei soldati e l'incubo degli assediati è proprio questo cioè il saccheggio della città quando c'è il saccheggio può accadere veramente qualsiasi cosa si dice Cesare che queste e molte altre motivazioni di questo tipo erano da aspettarsi da persone colte quali i marsigliesi infatti quello che non è ancora stato detto è che Marsiglia è una città che all'epoca ha un'alta reputazione di cultura e di eloquenza essendo un grande centro di civiltà greca Trebonio viene commosso da queste parole e quindi dà ordine di porre termine all'assedio e di aspettare l'arrivo di Giulio Cesare quindi tutti rallentano le attività e non stanno più attenti ovviamente ai pericoli che possono arrivare da sortite degli avversari perché tutti assedianti e assediati aspettano ora l'arrivo di Giulio Cesare d'altra parte Cesare stesso ci dice nel libro che ha caldamente raccomandato Trebonio di non lasciar prendere la città con la forza per far sì che non fossero uccisi tutti gli uomini validi i soldati credono però che la colpa del mancato saccheggio di Marsiglia che era un po' il loro sogno fosse di Trebonio però accade che i marsigliesi lasciati passare alcuni giorni e controllato che gli assedianti fossero tranquilli e non più vigili come erano prima invece improvvisamente balzano fuori dalle porte e slealmente favoriti da un forte vento danno fuoco a tutte le costruzioni che erano state fatte in quei lunghi mesi quindi danno fuoco ai plutei alla testugine alla torre alle macchine e Cesare ci dice anche al terrapieno anche se io non so come possa prendere fuoco un terrapieno ma mi fido per cui per il tradimento degli avversari e per la violenza del vento andò perso il lavoro di tutti quei mesi il giorno dopo i marsigliesi cercano di fare lo stesso tentativo con le macchine che erano state approntate dall'altra parte delle mura ma questa volta gli assedianti sono pronti e senza grande sforzo ricacciano all'interno delle mura i marsigliesi dopo la distruzione di tutte le loro opere di assedio i soldati di Trebonio si rimettono al lavoro con ardore ancora maggiore la loro preoccupazione principale è che il loro valore potrebbe essere oggetto di scherno d'altra parte non c'è più la possibilità di raccogliere il materiale necessario per la costruzione di un terrapieno dato che erano stati tagliati tutti gli alberi di quella zona quindi qui si spiega come si possa dar fuoco a un terrapieno perché esso viene realizzato ammassando alberi insomma è legno allora iniziano a costruire un terrapieno di nuovo genere che non era mai stato visto prima formato da due muri di mattoni dello spessore di sei piedi che vengono vengono uniti con delle travi e largo questo terrapieno quasi quanto quello che era stato fatto prima con tutto il legname ammassato nei punti dove serve frappongono dei pilastri e vi gettano sopra delle travi trasversali per dare maggiore solidità al tutto quindi i soldati possono operare coperti dai due muri sui due lati mentre di fronte vengono protetti dai soliti plutei e possono quindi trasportare tutto ciò che occorre al lavoro la costruzione procede con un ritmo altissimo grazie alla solerzia e alla bravura dei soldati quindi si riparano in breve tutti i danni che erano stati apportati dai marsigliesi quando questi si accorgono che quelle opere che credevano di aver messo fuori causa invece con pochi giorni di intenso impegno sono già state ricostruite e sono forse ancora migliori di quelle che erano state fatte prima quando capirono che essi erano ormai circondati da muri che erano ancora più alti dei loro muri dai quali i proietteli potevano essere lanciati col solo uso delle mani uscirono ancora una volta dalle loro mura e ricorsero alle medesime condizioni di resa della volta precedente oppressi da ogni sorta di male senza più cibo afflitti anche da una grave pestilenza con le loro opere abbattute i marsigliesi stabiliscono quindi di arrendersi questa volta senza nessun inganno saputo questo Lucio Domizio Enobarbo che è ancora all'interno delle mura sceglie di fuggire si procura tre navi e approfittando di una tempesta violentissima esce dal porto queste tre navi però vengono scorte dalla flotta di Decio Bruto che parte al loro inseguimento due navi tornano in porto e una sola proprio quella su cui c'è Lucio Domizio Enobarbo accelera invece e fugge visto questo i marsigliesi portano fuori dalla cittadella tutte le armi e i proiettili come gli era stato ordinato e ciò fatto Cesare sceglie di risparmiare la città più per il suo nome e per la sua antichità che per i meriti acquisiti in battaglia egli stesso poi parte per Roma mentre accadono questi fatti in Sicilia Gaio Currione che era lì stato inviato da Giulio Cesare parte alla volta dell'Africa perché vuole combattere contro Publio Attio Varo che pensa essere molto più debole va quindi là e vi trasporta due delle quattro legioni che gli ha dato Giulio Cesare più 500 cavalieri navica per due giorni e tre notti e sceglie di accamparsi in un luogo detto Castra Cornelia che è nella nella zona della città di Utica l'attuale Bouchatir a nord-ovest di Cartagine esplora il luogo vede il campo di Attio Varo che è addossato alle mura della città presso una porta detta Belica in onore del dio Bel e si accorge che da ogni parte stanno arrivando convogli cibo e tutte quelle cose che si accumulano quando si teme una calamità improvvisa quindi manda contro questi convogli la cavalleria per saccheggiare e per far preda ma contemporaneamente Varo manda in soccorso di questi convogli dalla città 600 cavalieri numidi e 400 fanti che gli erano stati dati dal re Giuba chi è il re Giuba è il figlio di Iempsale alleato di Pompeo e questo è molto importante ostile molto ostile a Curione perché questi quando era tribuno della plebe ha proposto una legge per incorporare il suo regno allo stato romano i cavalieri vengono quindi a uno scontro vincono facilmente quelli di Curione che forte di questa vittoria ordina a tutte le navi da trasporto che sono nel porto di Utica che sono circa 200 di andare subito presso il suo accampamento cioè presso Icastra Cornelia altrimenti li considererà come avversari istantaneamente tutte le navi levano le ancore e in questo modo viene approvvigionato l'esercito di Curione dopo questa vittoria Curione torna nel suo accampamento e viene salutato imperator per acclamazione dalle sue truppe questo era un titolo onorifico che veniva conferito al capo dopo un'importante vittoria il giorno dopo va con le sue truppe verso Utica e pone il suo accampamento presso la città non sono ancora finiti i lavori di fortificazione del campo che viene annunciato l'arrivo di grandi rinforzi di cavalleria e di fanteria mandati dal re Giuba infatti si vede in lontananza una gran nube di polvere allora si dà ordine di porre fine ai lavori di fortificazione e si schierano le truppe in assetto di battaglia in breve vengono messi in fuga tutti i rinforzi perché ci dice Cesare erano impacciati e confusi e marciavano senza ordine la cavalleria resta in colume non così i fanti che vengono massacrati in gran numero la notte successiva avviene un fatto a prima vista trascurabile ma che Cesare sceglie di raccontarsi perché invece è importantissimo cioè due centurioni marsi fuggono dal campo di Curione e passano a quello di Attiovaro con 22 compagni e qui entra in scena il Giulio Cesare psicologo e profondo conoscitore dell'animo umano che mi piace tanto perché dice noi crediamo volentieri ciò che desideriamo e speriamo che gli altri provino quello che noi stessi proviamo infatti questi due centurioni sia perché pensano veramente quello che dicono sia perché vogliono invece semplicemente far piacere a Attiovaro gli assicurano che i sentimenti dell'esercito sono ostili a Curione e che quindi è necessario che i due eserciti siano posti l'uno di fronte all'altro in modo tale che abbiano la possibilità di conversare Varo segue questo consiglio e la mattina dopo conduce le sue truppe fuori dal campo la stessa cosa fa Curione e le due truppe quindi sono separate solo da una piccola valle accade anche che nell'esercito di Attiovaro c'è un certo sesto quintilio varo chi è costui è uno dei tanti nobili che Giulio Cesare ha mandato liberi al termine dell'assedio di Corvinio accade però che per caso le truppe agli ordini di Curione sono proprio quelle truppe che al termine dell'assedio di Corfinio si erano arrese a Giulio Cesare e quindi sono le truppe che hanno combattuto per un certo tempo agli ordini proprio di questo sesto quintilio varo il quale quindi cerca di arringare le sue ex truppe li prega di non dimenticare il primo giuramento che avevano prestato per Pompeo e di non combattere a favore di quelli che li chiamano con disprezzo disertori alla fine di questo discorso sembra che non ci siano stati effetti sulle truppe né in un senso né nell'altro ma quando si torna nell'accampamento di Curione ci si rende conto che una grande inquietudine invade gli animi di tutti quando un'informazione infatti passa da una a più persone e passa di bocca in bocca si crede che venga da tante fonti e quindi sembra essere vera inoltre Curione è preoccupato dal fatto che i soldati ai suoi ordini in realtà hanno già fatto parte degli avversari e che i soldati dell'una e dell'altra parte ancora una volta per caso provengono dalla stessa zona cioè dai marsi e dai pelini quindi preoccupato Curione convoca il consiglio e apre la discussione sul da farsi c'è chi propone di attaccare subito l'accampamento di Attiovaro perché in questa fase sarebbe pericolosissimo attendere ulteriori cambiamenti dell'umore dei soldati e c'è chi invece pensa che sia più intelligente ritirarsi negli accampamenti per avere più tempo di ristabilire la calma tra i soldati e perché in caso di pericolo fosse possibile fuggire grazie al gran numero delle loro navi ascoltate le due proposte e disapprovandole prende infine la parola Curione che dice come possiamo aspettarci di espugnare un accampamento così ben fortificato dall'opera dell'uomo sappiamo che è il successo che suscita il favore dei soldati per il loro capo e sono le sconfitte che generano l'odio questa cosa aggiungo io vale anche oggi in ogni campo e d'altra parte continua Curione cambiare accampamento cos'altro significa se non la vergogna della fuga e il malcontento dell'esercito dobbiamo fare in modo che i soldati che ci sono fedeli non sospettino che abbiamo poca fede in loro e che i malvagi d'altra parte non sappiano che abbiamo paura di loro perché se dobbiamo dar fede alle voci che corrono sull'ostilità dell'esercito voci che io penso siano completamente false dobbiamo fare in modo in ogni caso di nasconderle anziché confermarle noi stessi perché non si devono forse tenerci i lati i punti deboli di un esercito esattamente come le ferite del corpo per non accrescere le speranze degli avversari conclude allora il generale delle truppe di Giulio Cesare dobbiamo prima studiare a fondo la situazione e sono certo che giungeremo a una decisione unanime aggiunge poi se volete sapere come finirà ascoltatemi non domani ma lunedì su Radio 2 alle 8 della sera sciolto il consiglio Curione vuole parlare alle sue truppe che teme gli siano infedeli e vogliano passare agli avversari io non vi dico tutto quello che dice lui alle sue truppe è molto interessante leggerselo per conto proprio in ogni caso all'interno della sua arringa egli cita un fatto molto importante che non sono stati loro ad abbandonare il loro capo Lucio Domizio Enobarbo nel corso dell'assedio di Corfinio ma è accaduto esattamente il contrario ed è stato grazie alla clemenza di Giulio Cesare che essi ora sono salvi sono vivi e possono combattere quindi vi leggo solo la conclusione della ringa di Curione che dice io ho voluto essere chiamato soltanto soldato di Cesare e voi mi avete nominato imperator se di ciò vi pentite vi restituisco il dono che mi avete fatto voi però restituitemi il mio nome perché non sembri che mi abbiate dato quel titolo per offendermi queste cose commuovono le truppe che interrompono spesso il loro capo perché non vogliono essere sospettati di infedeltà e quindi chiedono a gran voce di combattere e di dar prova della loro fede quindi viene raggiunto con questo discorso l'obiettivo che è quello di cambiare lo stato d'animo dell'esercito e Curione ne approfitta e il giorno dopo schiera le sue truppe esattamente nello stesso punto in cui erano state schierate qualche giorno prima Attiovaro non esita e fa la stessa cosa ognuna delle due parti aspetta che le truppe avversarie cerchino di attraversare la valle che si è detta prima cioè quella valle stretta ma molto ripida improvvisamente la cavalleria di Publio Attiovaro si lancia giù nella valle subito la cavalleria di Curione si lancia a sua volta nella valle e ben presto alla meglio sugli avversari allora incitato da uno dei suoi generali cioè Rebilo Curione parte all'attacco e insegue gli avversari che oramai sono in fuga terrorizzati e disordinati accade in questa fase che un pelino di nome Fabio cioè uno dei centurioni di più basso grado dell'esercito di Curione mischiandosi fra gli avversari in fuga chiama ad alta voce il nome di Varo come se fosse uno dei suoi uomini che gli vuole dire qualche cosa arrivato a contatto del generale avversario cerca di ammazzarlo e lo colpisce pure ma non ce la fa e viene ucciso a sua volta le truppe di Varo sono talmente scompiliate nella loro fuga che molti di essi muoiono non per essere uccisi dagli avversari ma perché si calpestano e quindi muoiono per altre cause alla fine della giornata Curione torna nel suo accampamento perché non può espugnare l'accampamento degli avversari essendo uscito per combattere e non per assediare e conta fra i suoi uomini la sola perdita del centurione Fabio mentre fra gli avversari si contano circa 600 vittime e un migliaio di feriti ma soprattutto le truppe di Attio Varo sono talmente terrorizzate che fuggono anche dal loro accampamento e vanno in città il giorno dopo quindi Curione inizia ad assediare Utica e a circondarla con un vallo con le opere che tutti noi ormai conosciamo bene in città c'erano la plebe che oramai non era più abituata alla guerra a causa di un lungo periodo di pace c'erano gli uticensi cioè gli abitanti di Utica molto amici di Cesare e c'era anche una comunità di cittadini di Roma che non aveva nessuna voglia di combattere contro le truppe di Giulio Cesare per cui si avviano delle trattative con Publio a Pio Varo per arrendersi mentre sono in atto queste trattative arriva l'informazione che il re Giuba sta avvicinandosi con grandi forze in aiuto di Utica queste stesse cose vengono dette a Curione che per qualche tempo non attribuisce nessuna importanza alla cosa anche per il fatto che arrivavano le informazioni dei successi di Giulio Cesare in Spagna per cui continua con le sue opere di assedio ma quando gli viene detto che Giuba è a meno di 25 miglia da Utica ordina di porre fine alle opere di assedio e si ritira nei Castra Cornelia che sono poco lontani e che sono adatti per tirare in lungo le operazioni di guerra chiuso nei Castra Cornelia Curione viene a sapere da alcuni disertori che il re Giuba si è trattenuto nelle sue terre per delle controversie con i Leptitani e che quindi si sta avvicinando a Utica soltanto uno dei suoi generali un certo Saburra con poche forze crede ciecamente a queste informazioni e commette l'errore di cambiare piano e qui Cesare analizza da par suo le componenti di questo errore cioè contribuisce a fargli commettere questo errore la sua giovinezza il suo grande coraggio i successi precedenti e la fiducia di condurre bene l'impresa fatto sta che manda tutta la sua cavalleria sul fiume Bagrada contro l'accampamento di questo Saburra ma non sa che il re è attendato a sei miglia da quel punto i cavalieri inviati da Curione attaccano gli avversari impreparati che sono accampati in modo non ordinato per un uso proprio dei barbari ne uccidono un gran numero ne mettono in fuga molti e fanno anche dei prigionieri che conducono all'accampamento di Curione il quale Curione intanto prima del giorno era già uscito con tutte le sue truppe dall'accampamento dopo una marcia di sei miglia incontra i cavalieri che stanno tornando dalla loro impresa e commette un altro errore cioè interroga i prigionieri ma in modo superficiale si fa dire solo il nome del loro capo che è Saburra e non li interroga invece sulle altre cose se lo avesse fatto avrebbe saputo ovviamente che il re Giuba era attendato poco lontano con grandissime forze e quindi incita le proprie truppe ad approfittare della fase favorevolissima dice vedete soldati che le parole dei prigionieri si accordano con quelle dei disertori il re è lontano ha inviato qui poche forze e queste non hanno saputo tenere testa neppure a un piccolo numero di cavalieri quindi affrettiamoci perché si può fare un grandissimo bottino commette un ulteriore errore perché non si rende conto che i cavalieri sono molto stanchi e quindi non lo seguono più ma si fermano qui e là tuttavia neppure questo scalfisce la fiducia di Curione che continua ad avanzare il re Giuba nel frattempo viene informato da Saburra della battaglia avvenuta nel corso della notte e gli invia 2000 cavalieri spagnoli e galli quindi ottimi combattenti egli cioè il re segue più lentamente anche perché conta fra le sue forze 60 elefanti Saburra mette in atto una trappola infatti sospettando che sarebbe ben presto arrivato Curione alla testa del grosso delle sue truppe da ordine ai suoi di far finta di cedere e di ritirarsi poco a poco Curione cade in questa trappola e la battaglia si risolve con una sconfitta di dimensioni catastrofiche per Curione che rifiuta la fuga e cade combattendo nel frattempo Giulio Cesare è stato nominato dittatore dal pretore Marco Emilio Lepido che è quello stesso Lepido che successivamente farà parte del triunvirato con Antonio e Ottaviano per 11 giorni resta a Roma e nel corso di questi 11 giorni cerca di risolvere un grave problema che intanto era sopravvenuto cioè la crisi del credito nel senso che in tutta Italia non si pagavano più i debiti al termine di questi 11 giorni lascia Roma e si reca a Brindisi dove come ho detto qualche puntata fa aveva fatto convenire un gran numero di navi e tantissime forze cioè tantissime truppe purtroppo quando arriva là trova poche navi cioè meno navi di quelle che aveva chiesto tanto che dice a stento si potevano trasportare 15.000 legionari e 500 cavalieri questo solo fatto aggiunge Cesare gli impedì di portare a termine rapidamente la guerra intanto Pompeo che non aveva dovuto combattere come Cesare in un periodo di circa un anno ha messo insieme grandissime truppe innanzitutto una grande flotta e poi addirittura nove legioni di cittadini romani che Cesare ci descrive minuziosamente cinque dall'Italia che sono quelle che aveva fatto arrivare sulle navi da Brindisi una di veterani dalla Cilicia che essendo formata dall'unione di due egli chiamava Gemella una di soldati veterani da Creta e dalla Macedonia due dall'Asia arruolate dal console Lentulo che quindi era chiaramente alleato di Pompeo inoltre c'erano anche un gran numero di forze sparse fra le quali Cesare cita Dejotaro con 600 galati Ario Barzane dalla Cappadocia con 500 uomini e Pompeo sceglie di passare l'inverno con tutte queste forze nelle città costiere dell'Adriatico tra cui Durazzo e Apollonia che è l'odierna città di Poiane in Albania inoltre per impedire a Cesare di attraversare il mare distribuisce la flotta lungo tutto il litorale agli ordini di Marco Bibulo ex collega nell'edilità nell'apertura e nel consolato proprio di Giulio Cesare Cesare arriva a Brindisi arringa le sue truppe li invita a lasciare di buon animo gli schiavi e i bagagli in Italia con l'obiettivo di imbarcare più soldati sulle navi e il 4 gennaio leva le ancore quindi sulle navi ci dice Cesare ci sono sette legioni approdano il giorno dopo nella terra dei germini o dei germini non entrano in nessun porto perché temono di trovarvi degli avversari e insomma Cesare fa sbarcare i suoi soldati sani e salvi nel luogo detto paleste cioè palasa sulla costa dove vuole attraccare Cesare ci sono nella città di Orico o Oricco Lucrezio Vespillone e Minuccio Ruffo con 18 navi mentre a Corcira cioè l'odierna Corfu c'è Marco Bibulo con ben 110 navi ebbene nessuno attacca Cesare i primi perché temono Cesare benché egli ci dice abbia come sua scorta solo 12 navi Bibulo invece non lo attacca perché Cesare appare presso quei lidi ancora prima che giunga la voce del suo arrivo Cesare sbarca le sue truppe e da ordine che quella stessa notte le navi partano per Brindisi per imbarcare il resto delle truppe e la cavalleria questo incarico viene dato a legato Fufio Caleno con l'ordine di fare in tutta fretta ma queste navi purtroppo non trovano il vento giusto per andare verso Brindisi e sono sfortunate perché infatti Bibulo irritato dal fatto di non aver intercettato Cesare salpa da Corfu sperando di incontrare le navi di Cesare cariche di soldati per affondarle invece incontra proprio le navi vuote che stanno andando verso Brindisi le intercetta e le incendia tutte occupando poi tutta la costa dell'Adriatico ci dice Cesare dal porto di Sasone che oggi si chiama Saseno fino a Curico che sarebbe l'attuale isola di Veglia accaduti questi fatti Cesare pensa di proporre ancora una volta a Pompeo un armistizio cioè di fare la pace pensa che l'uomo giusto per questo incarico sia Vibullio Ruffo che egli ha catturato per ben due volte e ha mandato sempre libero il succo è questo Cesare dice Pompeo deponiamo le armi visto che attualmente siamo forti pressappoco allo stesso modo cioè le nostre forze sembrano pari non facciamo sì che uno dei due acquisisca un seppur piccolo vantaggio perché a quel punto non avrebbe più interesse a far la pace con il suo avversario quindi la proposta di Giulio Cesare è questa recchiamoci tutti e due a Roma e di fronte alle truppe giuriamo di licenziare l'esercito entro tre giorni Vivulio quindi parte arriva da Pompeo ma prima di dirgli quello che gli ha detto Cesare lo informa dell'arrivo di Cesare Pompeo sconvolto da questa informazione accelera quindi la sua marcia verso la città di Apollonia Cesare invece va verso Oricco e cerca di occuparla in quei giorni la città è nelle mani del Pompeiano Lucio Torquato e accade quello che è accaduto tutte le altre volte cioè che Torquato alla fine si arrende e Giulio Cesare lo lascia andare in colume catturata quindi Orico o Oricco Cesare va verso Apollonia dove non è ancora arrivato Pompeo la città è sotto gli ordini del Pompeiano Lucio Staberio che saputo dell'arrivo di Giulio Cesare cerca di prepararsi al possibile anzi certo assedio ma gli abitanti di Apollonia dicono che non lasceranno fuori dalle loro mura Cesare e quindi Staberio con usciute le loro intenzioni fugge di nascosto quindi Cesare conquista Apollonia e saputo questo tutti i popoli circostanti si sottomettono a Cesare fra loro cito i Bullidensi e gli Amantini non perché siano importanti ma perché hanno dei bei nomi saputo dell'occupazione di Orico e di Apollonia temendo che Cesare voglia andare anche a Durazzo Pompeo cambia i suoi piani e si dirige proprio lì e ci dice Cesare poiché Pompeo affrettandosi non faceva distinzione tra il giorno e la notte marciando ininterrottamente un tale panico invase il suo esercito che quasi tutti i soldati dell'Epiro e dei paesi circostanti abbandonarono le insegne e parecchi gettarono le armi e così la marcia assomigliava a una fuga in ogni caso Pompeo arriva presso il fiume detto Apso che sarebbe l'attuale fiume Semeni in Albania e lì poco dopo giunge anche Giulio Cesare io vi cito tutti i nomi attuali dei luoghi perché i più interessati possono fare come ho fatto io e cioè prendersi una cartina e andare a controllare dove si svolgono tutti questi fatti l'appuntamento con Cesare e Pompeo è per domani su Radio 2 alle 8 della sera mentre Cesare e Pompeo sono accampati sulle rive opposte del fiume Apso in Albania Fufio Caleno imbarca a Brindisi i rinforzi chiesti da Giulio Cesare ma appena uscito dal porto gli arriva una comunicazione proprio da Giulio Cesare che lo informa di quello che è avvenuto cioè che i porti e tutta la costa sono occupati dagli avversari appreso questo Fufio chiama indietro tutte le sue navi una però di queste navi continua la sua rotta imperterrita senza tener conto dell'ordine ci dice Cesare perché era al comando di un privato e non trasportava truppe accade quindi che Marco Bibolo la intercetta cattura tutti e li condanna a morte uccidendoli uno per uno anche i fanciulli così ci dice Cesare da un solo attimo e da un caso fortunato dipese la salvezza di tutto l'esercito Bibolo è il capo della flotta Pompeiana e staziona nelle acque di Paleocastro cioè l'antica Orico e c'è una situazione paradossale perché se è vero che i Pompeiani impediscono alle navi di Giulio Cesare di prendere il mare è anche vero che le truppe di Cesare impediscono ai Pompeiani di attraccare e quindi di scendere a terra per rifornirsi di tutto quello che gli serve cioè legname cibo e acqua quindi i Pompeiani devono ricorrere a delle navi da carico che arrivano da Corfu però accade per esempio che nel corso di una tempesta privi di acqua devono stendere delle pelli sulle loro navi con le quali raccolgono la rugiada notturna accade quindi che Libone si congiunge con Bibulo e tutti e due entrano in conversazione dalle loro navi con i generali di Giulio Cesare che sono Manlio Acilio e Stazio Murco fondamentalmente propongono di parlare della pace ma chiedono innanzitutto una tregua siccome i generali di Cesare sanno che Cesare vuole la pace e in più sanno che è stata affidata una missione importantissima a Bibullio Ruffo concedono ai Pompeiani la tregua Cesare intanto era in tutt'altri luoghi cioè era a Butroto che è l'attuale Butrinto viene informato per lettera dai suoi generali delle proposte di Libone e Bibulo e quindi lascia in tutta fretta quei luoghi e torna a Paleocastro giunto lì fa convocare i due Pompeiani ma si presenta solo Libone e chiede scusa di questo a Cesare perché dice Bibulo nutre dei rancori personali verso Cesare e qui va detto che Bibulo era stato console con Giulio Cesare tempo prima ma a quei tempi circolava per Roma una battuta cioè che i consoli non erano Cesare e Bibulo ma Giulio e Cesare quindi è ovvio che Bibulo era invidioso e rancoroso verso Cesare quindi ci dice Libone dice Libone a Cesare anzi Bibulo non si era presentato per fare in modo che la sua ira non fosse di ostacolo alle trattative continua e dice che il più grande desiderio di Pompeo era che si arrivasse a un accordo e si deponessero le armi ma che loro due cioè Libone e Bibulo non avevano il potere di prendere delle decisioni lì Cesare riferisse quali erano le sue proposte e loro sarebbero andati a comunicarle a Pompeo intanto però l'importante era mantenere la tregua Cesare che non è completamente stupido si rende conto che questa è una sorta di trucco lui dice se volete che io allenti il blocco dalla parte della terraferma allentatelo anche voi dalla parte del mare ma se siete qui solo per chiedere un prolungamento della tregua allora non ci sto assolutamente quindi in sostanza rifiuta le proposte che gli sono state portate da Libone e si volge a pensare alla continuazione della guerra accade che Bibulo impedito da molti giorni di prendere terra e colpito dal grande freddo perché siamo in inverno e dalla fatica di una malattia molto grave non potendo curarsi improvvisamente muore dopo la sua morte nessuno però si assume il comando assoluto della flotta Pompeiana e ogni generale fa un po' quello che vuole lui contemporaneamente e Bibulio che era l'incaricato da Giulio Cesare di andare da Pompeo e portare la sua proposta di pace che era sostanzialmente andiamo a Roma e giuriamo di congedare le truppe entro tre giorni riferisce a Pompeo quello che gli era stato detto appunto da Giulio Cesare alla presenza di Libone Lucio Lucceio e Teofane Teofane è quello che scriverà delle gesta di Pompeo nelle sue guerre Lucio Lucceio è importante perché dopo la guerra contro Pompeo si riconcilierà con Giulio Cesare e quindi è evidentemente quello che ha raccontato questi fatti a Cesare stesso Pompeo interrompe dopo poco Vibullio e dice questo che importa a me della vita e dei miei diritti se si crederà che ne vado debitore a Cesare e non potrà sradicarsi questa opinione quando mi si riterrà ricondotto a forza in quell'Italia da cui sono partito quindi rifiuta la proposta di pace di Giulio Cesare intanto Cesare e Pompeo sono sempre accampati sulle rive del fiume Apso e i soldati come è accaduto altre volte si parlano dagli accampamenti senza che ci siano lanci di proiettili o di frecce allora Giulio Cesare che vuole sempre comunque tentare di arrivare a un accordo manda fino sulla riva del fiume il suo generale Publio Vattinio e gli dà l'incarico di urlare fortissimo e di chiedere se è lecito a cittadini inviare a propri concittadini dei messi di pace con lo scopo di impedire che cittadini prendano le armi contro loro concittadini Vattinio parla molto a lungo urla molto a lungo finché dalla parte opposta giunge la voce di Aulo Varrone Pompeiano che si impegna a presentarsi il giorno successivo a colloquio per esaminare non come arrivare a un accordo ma come gli ambasciatori possano entrare senza correre rischi nell'accampamento degli avversari a esporre gli accordi di pace gli eventuali accordi viene fissata anche un'ora per questo colloquio e il giorno dopo allora fissata una grande folla accorre dalle due parti per ascoltare quello che viene detto ma tra la folla dei Pompeiani si fa largo Tito Labieno che chi ha letto il Devello Gallico conosce già come generale di Giulio Cesare anche grandissimo diciamo che ora però combatte fra le fila dei Pompeiani che inizia a litigare con Vattinio e quindi non vuole fare assolutamente la pace iniziano a arrivare frecce da ogni parte Vattinio non viene colpito ma altri sì e a questo punto il Pompeiano Labieno grida cessate dunque di parlare di accordo perché non vi può essere pace per noi se non quando ci sarà portata la testa di Cesare si assiste quindi a un evento che ho visto già altre volte cioè personaggi che hanno combattuto in passato agli ordini di un capo e che in un'altra guerra invece combattono agli ordini del suo avversario ma con la stessa foga una cosa che mi pare non sia mai più accaduta e non accade in ogni caso ai giorni nostri tranne che nel caso dei mercenari intanto a Paleocastro Libone i cui tentativi di giungere a un accordo e di chiedere una tregua erano falliti salpa e giunge a Brindisi dove occupa quell'isola che già poco tempo prima era stata occupata da Pompeo blocca quindi lì le truppe di Giulio Cesare cioè i rinforzi che Cesare sta aspettando ed è talmente tranquillo che manda delle lettere a Pompeo dove gli dice che se crede egli può tirare in secco tutta la sua flotta perché tanto basta lì lui a bloccare la possibilità che gli aiuti di Giulio Cesare prendano in largo intanto a Brindisi c'è Antonio che tenta di scacciare i Pompeiani dall'isola e escogita per questo scopo un trucco cioè manda due barche di veterani fino all'imboccatura del porto con la scusa di un'esercitazione i Pompeiani quando vedono ciò lanciano cinque quadriremi contro queste due barche che in tutta fretta tornano indietro a un segnale convenuto tutte le navi di Antonio attaccano queste cinque quadriremi Pompeiane quattro fuggono ma una viene catturata siccome poi Antonio impedisce ai Pompeiani di scendere a riva per rifornirsi di acqua accade ben presto che Libone viene costretto ad abbandonare l'isola a largo del porto di Brindisi nel frattempo siamo giunti a marzo e Cesare vuole assolutamente che gli vengano inviate le truppe che ha chiesto da tanto tempo per cui manda un ordine al porto di Brindisi che dice fondamentalmente approfittate dell'occasione buona per prendere il largo e per fare rotta verso la costa di Apollonia approdate lì perché quella è la zona meno sorvegliata dalle flotte Pompeiane in quanto essi non osano avventurarsi troppo lontano dai loro porti i generali di Giulio Cesare Marco Antonio e Fufio Caleno che sono a Brindisi salpano quindi e partono con il favore del vento austro che è un vento che soffia da sud giunti in vista delle coste vengono intercettati dalla flotta Pompeiana e qui ci dice Cesare la fortuna aiuta la sua flotta perché il vento austro riprende a soffiare con più forza quindi fa in modo che i Pompeiani non possano intercettare e affondare le navi di Giulio Cesare arrivati in vista del porto detto Ninfeo che oggi si chiama San Giovanni di Medua ed è in Albania un porto che ci dice Cesare è protetto dal vento africo che sarebbe il libeccio che soffia da sud-ovest ma non è protetto dall'austro cioè il vento che soffia da sud la flotta di Giulio Cesare viene aiutata una seconda volta dalla fortuna perché una volta entrati nel porto improvvisamente il vento austro che stava soffiando da due giorni ininterrottamente improvvisamente cambia in Africo e questo colpo di fortuna come accade tante altre volte e come ci viene detto questa volta veramente con molta onestà da Giulio Cesare aiuta la sua flotta perché entrata nella porto essa è protetta dall'Africo mentre le navi pompeiane che sono ancora fuori vengono travolte dalla potenza della tempesta vengono affondate quasi tutte e un gran numero di soldati viene ucciso insomma muore mentre quelli che restano vivi vengono ripescati dalle truppe di Giulio Cesare e vengono mandati salvi a casa loro non tutte le navi però salpate da brindisi riescono ad arrivare nel porto di Ninfeo due navi si attardano una carica di reclute e l'altra carica di veterani che si ancorano di fronte alla città di Lisso comandata dal pompeiano Otacilio Crasso che manda contro di loro delle altre navi preparandosi a salirle ma nello stesso tempo proponendo a chi si arrende la vita salva una di queste due navi cioè quella delle reclute di cui militi sono ci dice Cesare sfiniti dal mal di mare si arrende vengono condotti di fronte a Otacilio ma contrariamente a quello che era stato promesso vengono uccisi a uno a uno invece i veterani e qui ci dice Cesare che questi veterani dimostrano quale difesa abbiano gli uomini nella forza del loro animo i veterani fingono di arrendersi tirano in lungo fino alle prime ore della notte costringono quindi il pilota ad approdare in un punto abbastanza tranquillo dove passano il resto della notte e poi all'alba attaccati da circa 400 cavalieri oppongono la forza della loro esperienza e si salvano dopo questi fatti Antonio occupa la città di Lisso e Otacilio Crasso che teme per la sua vita si rifugia da Pompeo Cesare viene informato che finalmente Antonio è sbarcato con i rinforzi che aspettava e quindi toglie l'accampamento sulle rive del fiume Apso con l'obiettivo di congiungersi ad Antonio Pompeo informato contemporaneamente di questi fatti toglie anche lui l'accampamento ma con l'obiettivo opposto cioè quello di intercettare il cammino di Antonio però in vano quindi Cesare si congiunge alle truppe di Antonio e cerca di occupare nuove terre occupa la Tessaglia a capo della quale mette Calvisio occupa anche il territorio dell'Etolia a capo del quale mette Cassio Longino che è fratello di un altro Cassio Longino Pompeiano quindi si assiste anche a due fratelli che combattono su fronti opposti il generale di Giulio Cesare Domizio Calvino viene inviato in Macedonia dove arriva l'informazione che sta arrivando Scipione il suocero di Pompeo alla testa di grandi truppe Scipione non si ferma in alcun luogo della Macedonia muove con grande impeto contro Calvino ma quando arriva a 20 miglia da Calvino improvvisamente cambia piano e va verso Cassio Longino in Tessaglia e per aumentare la sua velocità lascia i bagagli presso il fiume Aliacmone che è l'attuale Vistrizza che separa la Macedonia dalla Tessaglia con 8 coorti agli ordini di Marco Favonio quindi Cassio Longino fugge e Scipione sta già per avventarglisi contro quando gli arriva la comunicazione dal suo generale Marco Favonio che Calvino sta per attaccarlo quindi ci dice Cesare la perizia la perizia di Domizio Calvino fu la salvezza di Cassio Longino e la velocità di Scipione fu la salvezza di Favonio io vi aspetto domani alle 8 della sera su Radio 2 quando Giulio Cesare viene a sapere che Pompeo si trova presso la città di Asparagio in Albania va proprio lì con tutte le sue forze e vi arriva due giorni dopo si accampa di fronte all'accampamento di Pompeo e il giorno dopo conduce le sue truppe fuori dall'accampamento e si schiera per offrire battaglia a Pompeo ma Pompeo non vuole combattere allora il giorno successivo Cesare pensa a un altro piano e parte alla volta di Durazzo con tutte le sue forze compiendo un lunghissimo giro sperando di tagliar fuori Pompeo da quella città perché è proprio lì che Pompeo ha tutti i suoi viveri e tutto il suo materiale per combattere e avviene proprio questo perché Pompeo sulle prime pensa che Cesare si allontani da quel luogo costretto dalla scarsezza di cibo ma poi quando viene informato che Cesare invece sta andando proprio verso quella città dove lui ha tutto quello che gli serve per combattere in tutta fretta leva il suo accampamento cerca di arrivare prima di Giulio Cesare ma Cesare fa marciare le sue truppe per quasi tutta la nottata e alla mattina successiva arriva a Durazzo dove pone il suo accampamento mentre si vedono da lontano le avanguardie di Pompeo che stanno arrivando Pompeo vistosi tagliato fuori da Durazzo siccome non ha potuto fare quello che si era prefisso si accampa su un'altura detta Petra che è un'altura a sud-est di Durazzo che viene detta oggi Sasso Bianco fa una grandissima scorta di cibo e di vettovaglie saputo questo Cesare concepisce un piano adatto alla natura del luogo e qui entra in gioco forse per la prima volta in questo libro il genio militare di Giulio Cesare siccome vede che intorno a quest'altura di Petra c'erano molti colli alti e molto scomodi diciamo da raggiungere prima di tutto occupa questi colli con dei presidi e vi fa costruire dei fortilizi poi conduce dalla cima di un colle all'altro delle fortificazioni con lo scopo di circondare l'accampamento di Pompeo e questo fa ci dice Cesare con tre fini primo siccome Cesare ha poco cibo e Pompeo ha un gran numero di cavalieri con i quali potrebbe impedire a Cesare di farsi portare il cibo dai territori circostanti quindi questo gli garantisce gli approvvigionamenti secondo per intercettare i foraggiatori di Pompeo che sarebbero invece andati tutto intorno a fare scorta di grano e terzo per sminuire il prestigio di cui Pompeo pareva godere particolarmente presso i popoli stranieri Pompeo quindi è in trappola non vuole allontanarsi dal mare e da Durazzo perché lì c'è tutto il suo materiale bellico d'altra parte non può impedire a Cesare di costruire le sue fortificazioni perché altrimenti sarebbe stato obbligato a combattere non gli resta che fare la stessa cosa cioè occupare il maggior numero di colli per cercare di occupare la più vasta porzione di territorio possibile accade proprio questo Pompeo costruisce 24 fortini abbracciando un territorio di 15 miglia e in questo spazio cerca di foraggiare in quella zona ci dice Cesare ci sono anche molte terre coltivabili nelle quali si possono anche far pascolare le bestie da Somma e quindi conduce da un colle all'altro una linea ininterrotta di fortificazioni però Cesare dice che i Pompeiani lavorano molto più velocemente delle sue truppe sia perché hanno un numero di soldati molto più alto sia perché occupando le linee interne la loro linea di fortificazione è più corta di quella che vuole fare Cesare tutti e due si impegnano al massimo per occupare i punti da fortificare Cesare perché vuole tener chiuso Pompeo nello spazio il più stretto possibile Pompeo invece perché vuole allargare questa zona e per questo fatto avvengono frequenti scaramucce Giulio Cesare sottolinea la singolarità di questo modo di combattere per varie cause sia per il grande numero di fortini sia per l'estensione e per l'imponenza della linea delle fortificazioni e anche per il fatto che in genere chi tenta un assedio assale un avversario debole e inferiore in numero e cerca di intercettare l'arrivo dei viveri invece in questo caso Cesare tiene chiuse delle truppe fresche e incolumi con un numero inferiore di soldati e i suoi avversari hanno grande abbondanza di tutto perché possono essere riforniti via mare dalle navi invece Cesare al contrario dato che ha consumato tutte le messi in lungo e in largo si trova in difficoltà molto gravi dal punto di vista del cibo ma i suoi soldati sopportano tutto con pazienza e fiducia incrollabili memori delle grandi vittorie ottenute in passato al prezzo di sacrifici simili inoltre Cesare ci dice che le truppe ausiliare scoprono una specie di patata detta cara che mescolata con latte era un aiuto un sostentamento in quei tempi di carestia molto grave quando i pompeiani nel corso dei colloqui rinfacciavano ai soldati di Giulio Cesare la loro fame questi gettavano da ogni parte contro di loro dei panini fatti proprio con questa cara allo scopo di diminuirne le speranze di vittoria con il passare del tempo si cominciano a vedere gli effetti della tattica di Giulio Cesare infatti comincia a maturare il grano e la semplice speranza di questo accadimento aiuta i soldati di Giulio Cesare a sopportare la sofferenza della carestia si sentono spesso infatti nelle conversazioni i soldati dire che si sarebbero nutriti con la corteccia degli alberi piuttosto che lasciarsi sfuggire Pompeo dalle mani inoltre si apprende dai disertori che i pompeiani se da una parte riescono a sostentare i cavalli non riescono invece a nutrire le bestie da Soma che muoiono in grande quantità che sono quindi disturbati dal puzzo che viene emanato dai molti corpi morti non sono più avvezze a sopportare le fatiche dell'assedio ma che soprattutto sono afflitti da un'estrema mancanza d'acqua infatti Cesare fra le altre cose ha deviato o ostruito con grandi dighe tutti i fiumi e tutti i torrenti che vanno in direzione delle fortificazioni dei pompeiani che quindi sono costretti a mantenersi nei luoghi bassi e a cercare di scavare pozzi invece le truppe di Giulio Cesare godono di ottima salute e hanno grandissime quantità d'acqua e anche di cibo eccettuato il grano in questo nuovo genere di guerra i pompeiani sono costretti a escogitare nuovi metodi per uscire dal loro assedio ad esempio vedendo che i soldati di Cesare nel corso della notte si riunivano intorno ai fuochi escono silenziosamente dalle loro mura e improvvisamente lanciano tutte le frecce laddove c'è un fuoco la contromossa dei soldati di Cesare è ovviamente quella di accendere dei fuochi in altri punti finché Pompeo pensa che non sia giunta l'ora di una sortita per cui imbarca una parte della cavalleria con destinazione Durazzo per fare in modo di entrarvi e di recuperare materiale e viveri che possono essergli utili Cesare saputo questo si mette in cammino alla volta di quella città per cercare di impedire che questo accada allora Pompeo approfittando dell'assenza di Cesare attacca con grandissime forze un fortino che tiene duro per quattro ore con una sola corte dopo queste quattro ore arriva Silla con nuove forze fresche e vanifica questo estremo tentativo di Pompeo a questo punto Cesare fa delle considerazioni interessanti infatti Silla che era stato lasciato da lui nell'accampamento non insegue le truppe di Pompeo anche quando sembrava che con poco sforzo sarebbe stato possibile batterli e quindi in pratica chiudere l'intera guerra tuttavia Cesare dice che non è compito del legato fare delle scelte di testa propria perché questo è compito del capo assoluto cioè di Cesare stesso quindi difende in questa fase Silla che era evidentemente stato criticato da tantissima gente perché dice nonostante un possibile esito favorevole del combattimento non aveva dato l'impressione di essersi arrogato i poteri di Giulio Cesare stesso Pompeo fu messo in gravissima difficoltà da questa fuga quindi con una decisione dettata dalla necessità e non dalla tattica occupò un'altura così lontana dal fortino di Cesare che non poteva essere raggiunta neanche dai proiettili lanciati dalle macchine si fermò lì fortificò quel colle e vi riunì tutte le sue truppe in quel giorno si combatte anche in altri luoghi e il computo complessivo dei morti di Pompeiani è di circa duemila mentre fra le truppe di Giulio Cesare si contano solo venti vittime ma ci dice Cesare anche con grande orgoglio nel fortino che resistette per quattro ore non vi fu un solo soldato che non restasse ferito e quattro centurioni furono accecati dalle frecce degli avversari Cesare cita la figura del centurione sceva sul cui scudo che venne presentato a Cesare stesso furono contati centoventi fori di frecce siccome costui si era reso protagonista principale di questo atto di eroismo gli donò duecentomila sesterzi e lo promosse dall'ottavo grado al primo grado che era il più ambito per un centurione Pompeo aggiunge nuove imponenti fortificazioni al suo nuovo accampamento e poi dopo qualche giorno approfittando di una notte nebbiosa ci dice Cesare con senso di spregio verso il suo avversario si ritira nelle antiche fortificazioni nei giorni successivi Cesare schiera le sue truppe in un luogo piano nel caso Pompeo volesse ingaggiare battaglia e si avvicina sempre di più a lui e dice che la prima fila era lontana dal vallo degli avversari quel tanto che bastava per essere fuori dalla portata dei proiettili di Pompeo ma Pompeo stesso per conservare la sua fama schierava le sue truppe di fronte al suo accampamento in modo tale che la terza fila fosse a contatto con la fossa che circondava l'accampamento e quindi mostrava di non voler combattere in questa situazione di sostanziale stallo accade un fatto che ci viene raccontato da Giulio Cesare e che condiziona l'andamento della guerra di qui in poi ci sono nell'esercito di Giulio Cesare due fratelli allobrogi cavalieri Roucillo ed Ecco figli di Abducillo che erano stati portati in posizione elevatissima proprio da Cesare essi vengono un giorno accusati dai cavalieri di frodare la loro paga di sottrarre soldi per trattenerli per sé e fondamentalmente di denunciare un falso numero effettivo di cavalieri per poterne riscuotere la paga quindi è una cosa che accadeva già nell'antichità questo forse può essere di consolazione non accade solo oggi Cesare pensa che quello non è il momento giusto per infliggere castighi e quindi pensando di essere indulgente li convoca e li rimprovera allora essi vergognandosi molto e pensando quindi di non essere stati assolti ma che la punizione sarebbe arrivata in un tempo successivo decidono di passare dalla parte di Pompeo inizialmente vorrebbero uccidere il prefetto Gaio Voluseno ma questo fatto viene saputo solo dopo la fine della guerra chiedono in prestito moltissimi soldi e poi passano dalla parte di Pompeo Pompeo si vede quindi recapitare nel suo accampamento un dono del destino due nobili all'obrogi equipaggiati riccamente con un gran seguito e con tantissimi cavalli quindi li porta e li mostra a quelli che sono all'interno della sua fortificazione ci dice Cesare che prima di allora nessun soldato o cavaliere era passato da Cesare a Pompeo mentre quasi quotidianamente c'erano disertori che andavano da Pompeo a Cesare ovviamente i due nobili all'obrogi sono informatissimi su vari particolari importanti ad esempio i punti deboli delle fortificazioni di Cesare e le zone che non erano ancora state fortificate gli orari delle varie operazioni le distanze fra i diversi punti e la maggiore o minore diligenza nel servizio di vigilanza riferiscono tutti questi particolari a Pompeo dopo aver ricevuto queste informazioni egli che aveva già pensato di operare una sortita decide di passare all'azione verso mezzanotte tira fuori dall'accampamento principale 60 coorti e le conduce nella parte di fortificazioni che sono più lontane dall'accampamento principale di Giulio Cesare e che guardano verso il mare manda là anche un grandissimo numero di navi molto ben equipaggiate e Cesare ci dice che in questo settore delle fortificazioni c'era il questore Lentulo Marcellino con la nona legione siccome egli non stava molto bene era stato mandato lì per aiutarlo anche Fulvio postumo in quel punto Cesare aveva fatto innalzare una doppia palizzata per evitare di essere attaccato dai due fronti ma data la grandissima lunghezza della fortificazione ben 17 miglia non aveva fatto in tempo a far innalzare una palizzata trasversale che unisse le altre due e che era posta proprio di fronte al mare ovviamente questo particolare viene detto a Pompeo dai due disertori all'obrogi e quindi i Pompeiani portano un attacco violentissimo proprio in quel punto le truppe di Giulio Cesare essendo incalzate e resistendo a malapena vengono messe in fuga dai Pompeiani e mi piace sottolineare qui che quando i Pompeiani fuggono è quasi sempre una fuga vergognosa mentre in questo caso no gli aiuti inviati prontamente non sortiscono nessun effetto perché vengono travolti dai loro stessi commilitoni che fuggono in preda al panico e Cesare ci racconta qui l'episodio di un aquilifero che trasportava il simbolo dell'aquila così importante che all'arrivo dei cavalieri grida quest'aquila io vivo ho difeso per molti anni con molto amore e ora morendo restituisco con uguale fedeltà a Cesare grazie quindi al coraggio di questo uomo si salva l'aquila simbolo dell'esercito di Giulio Cesare i Pompeiani stanno già avvicinandosi quindi al campo di Marcellino facendo larga strage quando si vede che dalle alture sta arrivando Marco Antonio con nuove truppe poco dopo arriva anche Giulio Cesare che è stato avvertito con segnali di fumo trasmessi da un fortino all'altro quindi si può ben dire che gli indiani non hanno inventato un bel niente Cesare cambia il suo piano e ordina di trincerarsi nei pressi di Pompeo salvando quindi le sue truppe da una sconfitta molto grave se volete sapere come continua ci sentiamo domani alle 8 della sera su Radio 2 alle 8 della sera il racconto il racconto delle cose e dei fatti Elio e il Debello Civili di Elio e Caio Giulio Cesare Caio Giulio Cesare Elio e Caio Giulio Cesare e il Debello Civili Cesare si è accampato vicino a Pompeo improvvisamente i suoi esploratori scoprono che una legione di Pompeo sta dirigendosi verso un vecchio accampamento di Giulio Cesare che era stato da lui abbandonato allora va fatta una breve storia di questo accampamento perché è molto importante prima era di Giulio Cesare che poi lo abbandona per cause che non ci vuole dire viene quindi occupato da Pompeo che essendo troppo piccolo lo allarga e usa il vecchio accampamento come una sorta di fortino rocca contenuta all'interno del nuovo accampamento e in più aggiunge una trincea di 400 passi cioè circa 600 metri per arrivare fino a un fiume che era lì accanto per prendere l'acqua ma poi lo abbandona ancora una volta anche lui quindi questo campo resta abbandonato per qualche tempo ma ora come viene visto dagli esploratori di Cesare sta per essere occupato da nuove truppe di Pompeo l'accampamento è lontano 500 passi cioè circa 750 metri dal nuovo accampamento di Pompeo allora Cesare che vuole vendicarsi dello scacco che aveva subito in quella giornata cerca un colpo a sorpresa quindi lascia sulle sue fortificazioni alcuni uomini per dare l'impressione che le cose stiano andando avanti come sempre e conduce 33 delle sue cohorti quindi si parla di circa 10.000 uomini di nascosto contro l'accampamento più piccolo le cui porte erano ostruite da un ericcius cioè riccio in pratica un cavallo di frisia dell'antichità quindi una grossa trave con delle punte metalliche ma alla fine le truppe di Giulio Cesare entrano dentro ecco che invaso il campo ancora una volta la fortuna interviene fortuna che ci dice Cesare è importante non solo nella vita di ogni giorno ma anche e soprattutto nelle battaglie l'ala destra di Giulio Cesare ignara inizia a seguire questa trincea di 600 metri che porta al fiume convinta che siano altre fortificazioni del campo arrivati al fiume si rendono conto che non è vero e quindi abbattono parte di quelle mura e escono fuori intanto Pompeo che è stato avvertito dell'attacco di Giulio Cesare giunge in aiuto delle sue truppe con circa 15.000 uomini e quindi tutto all'improvviso cambia perché i Pompeiani che erano attaccati quando vedono che arrivano degli aiuti improvvisamente prendono nuova forza e contrattaccano quelli di Giulio Cesare invece che sono un po' diciamo fuori dalle mura e non sanno cosa fare quando vedono che arrivano i loro avversari per paura di essere poi chiusi in un piccolo spazio fuggono senza ordine in pratica quindi accade che si buttano quasi tutti nelle fosse da un'altezza di 3 metri circa cioè 10 piedi schiacciano i propri compagni per andarsene via da quella zona per un caso quella che sembrava una vittoria facile si trasforma per Giulio Cesare in una sconfitta drammatica Cesare cerca di fermare egli stesso i fuggitivi e raccoglie le insegne buttate per terra ma quel giorno perde non si arriva alla sconfitta diciamo più grave in assoluto perché Pompeo forse temendo un agguato dato che il successo era andato oltre ogni sua aspettativa non si avvicina per qualche tempo all'accampamento in questo scontro muoiono 960 fanti quasi tutti schiacciati dai propri compagni 32 insegne vengono perse e Pompeo viene dichiarato imperator i soldati di Giulio Cesare catturati nel corso di questo scontro vengono condotti da Labieno che ha combattuto per Giulio Cesare nella guerra gallica ma ora è dalla parte di Pompeo e che Cesare dice essere quindi un disertore e questi militi con la stessa accusa e insultati da Labieno vengono uccisi tutti la fiducia dei Pompeiani viene accresciuta dall'esito di queste battaglie tanto che non si preoccupano più ci dice Cesare di come combattere per poi vincere ma di quello che accadrà dopo Cesare analizza molto freddamente le cause dell'esito di questo scontro lo scarso numero di soldati innanzitutto il terrore di essere attaccati dalle due parti la suddivisione dell'esercito per un caso in due parti senza che una parte possa aiutare l'altra inoltre nota che i maggiori danni non sono stati inferti alle sue truppe dagli attacchi degli avversari ma sono stati provocati dall'accalcarsi dei suoi soldati che come ho detto prima si sono camminati l'uno sull'altro come sempre accade nelle fughe senza ordine dove regna il panico quindi Cesare in un attimo cambia tutti i suoi piani raccoglie tutte le sue truppe in un solo punto e come prima cosa le arringa ricorda i grandi successi ottenuti minimizza la sconfitta del giorno prima priva alcuni portainsegne del loro grado e a questo punto tutti si vergognano di quello che è accaduto e vogliono cancellare l'onta della sconfitta si impegnano quindi nei compiti più insomma gravi come per darsi un castigo e ardono dalla voglia di combattere Cesare contrariamente a quello che gli viene suggerito dai suoi generali pensa che sia indispensabile far passare un po' di tempo per rinfrancare gli animi dei suoi soldati e quindi non vuole combattere subito parte improvvisamente e conduce una marcia velocissima verso la città di Apollonia sorprendendo quindi Pompeo che non se ne accorge subito e che dopo quattro giorni rinuncia a inseguirlo ed è obbligato a sua volta a cambiare piani Cesare cerca quindi di ricongiungersi alle truppe di Domizio Calvino prima che nello stesso punto arrivi Pompeo infatti come è stato detto Scipione generale di Pompeo è accampato esattamente di fronte a Calvino Cesare prevede tre casi primo caso se Pompeo lo inseguisse lui si allontanerebbe quindi dal mare e dal posto dove ha tutte le sue truppe diciamo e le sue vettovaglie quindi si troverebbe Pompeo obbligato a combattere ad armi pari contro Cesare se invece caso 2 Pompeo passasse in Italia Cesare si ricongiungerebbe senza rischi con le altre sue truppe e andrebbe poi a sua volta verso l'Italia terzo caso se invece Pompeo cercasse di prendere Apollonia cercando quindi di scacciare Cesare dal mare egli Cesare assedirebbe a sua volta Scipione costringendo così Pompeo a correre in suo aiuto Pompeo immagina quello che pensa Cesare quindi pensate che strateghi pazzeschi e si mette in marcia a sua volta verso Scipione Calvino però nel frattempo si era allontanato per conto suo da Scipione perché era senza cibo e si dirigeva ignaro proprio in bocca a Pompeo ma ancora una volta interviene la fortuna accade che alcuni allobrogi amici di Raucillo ed Eco quei due allobrogi che erano passati improvvisamente dalla parte di Pompeo con una mossa molto importante per le sorti dell'intera guerra insomma questi amici per cause ignote non solo a noi ma anche a Giulio Cesare svelano tutto ad alcuni esploratori di Calvino che quindi schiva questo gravissimo rischio per sole quattro ore e si ricongiunge sano e salvo a Cesare presso la città di Eginio al confine tra l'Epiro e la Tessaglia quindi l'intero esercito di Giulio Cesare può arrivare alla città di Gonfi che è la prima città della Tessaglia arrivando dall'Epiro ed è l'attuale Paleo Episcopis per chi se lo volesse andare a cercare su una cartina anche lì erano arrivate le voci gonfiate essendo nella città di Gonfi della vittoria di Pompeo Androstene quindi che è il comandante della Tessaglia è ostile a Cesare perché questo accade sempre cioè il popolo sta sempre anche oggi con il vincitore e non sta mai con chi perde quindi questo Androstene si barrica nella città di Gonfi e chiede subito aiuti a Pompeo che però sono lontani allora Cesare intuendo quello che sta per accadere incita i soldati a conquistare velocemente questa città sia per fare scorta di quello che serve ma anche per dare l'esempio alle altre città accade esattamente questo in un solo giorno i militari di Giulio Cesare incitati da questa prospettiva espugnano Gonfi e Cesare li lascia liberi di fare razzie all'interno delle mura tutto ciò è terribile ma viene ottenuto l'effetto quindi Cesare porta sotto le mura della città successiva che è la città di Metropoli alcuni superstiti di Gonfi che raccontano urlando l'accaduto ai metropoliti sulle Mura i quali quindi aprono subito le loro porte senza combattere e accade questo per tutte le città della Tessaglia a eccezione di Larissa o Larissa occupata da Scipione siamo quindi arrivati anche se Cesare non lo dice mai espressamente nella piana di Farsalo Pompeo giunge quindi in Tessaglia pochi giorni dopo e si riunisce a Scipione con il quale divide l'onore del comando ci dice Cesare che la fiducia dei Pompeiani è tale che si contendevano apertamente le cariche sacerdotali e fissavano i consoli per gli anni successivi mentre altri chiedevano le cose e i beni di quelli che combattevano per Giulio Cesare arrivarono addirittura al punto di litigare per la successione alla carica di Pontefice Massimo che era di Giulio Cesare stesso nessuno pensava quindi a come fare per vincere ma a cosa fare dopo intanto Cesare che invece sa di non avere ancora perso fa provviste di cibo e passato qualche giorno vuole effettuare una sorta di test su Pompeo cioè schiera le sue truppe in ordine di battaglia ogni giorno un po' più vicine al campo di Pompeo e in questo modo aumenta giorno dopo giorno la fiducia dei suoi soldati Cesare che sa di essere inferiore a Pompeo nel numero dei militi inventa un altro trucco cioè schiera la cavalleria inserendo fra le sue file dei soldati giovani scelti fra gli antesignani cioè quelli delle prime file diciamo in questo modo mille cavalieri in uno scontro tengono testa e anzi battono 7000 Pompeiani e in questo scontro muore Eco che è uno di quei due allobrogi di cui si è detto prima questo Cesare ce lo dice in modo freddo ma io leggo una soddisfazione insomma anche giustificata l'accampamento di Pompeo è posto sopra a un colle e Pompeo ogni giorno schiera le sue truppe proprio alle falde del colle attendendo che Cesare commetta un piccolo sbaglio Cesare non ne commette e dal canto suo quando vede che Pompeo non vuole combattere improvvisamente come molto spesso fa cambia tattica inventa un nuovo piano sceglie quindi di muoversi e di stancare gli avversari che e questo Cesare lo sottolinea varie volte non sono avvezzi alla fatica cerca quindi di stancarli con marce continue e con attacchi improvvisi nel corso di queste marce quando tutto è quindi pronto per partire ancora una volta all'improvviso viene detto a Cesare da degli esploratori che Pompeo contrariamente agli altri giorni si è staccato molto dal suo vallo e che quindi si può combattere in posizione vantaggiosa per la prima volta immediatamente Cesare cambia ancora il piano e dice questo ce lo dice è una delle poche volte che riferisce una frase dobbiamo per ora differire la nostra marcia e pensare alla battaglia come abbiamo sempre desiderato siamo pronti a combattere difficilmente più tardi ne troveremo l'occasione e beh sapere che Cesare dice esattamente queste frasi devo dire che mi provoca un'emozione forte anche Pompeo incitato dai suoi ma questo Cesare lo saprà solo dopo questa battaglia ha scelto di combattere Pompeo arringa quindi le sue truppe e spiega il suo piano vuole attaccare Cesare con la cavalleria sul lato destro che viene detto il latum apertum perché siccome gli scudi sono imbracciati con la sinistra la mano destra non può proteggere il corpo perché deve impugnare l'arma finito di parlare Pompeo parla Labieno di cui si è già detto prima ex generale di Giulio Cesare che ora combatte invece per Pompeo il quale dice che le truppe di Cesare non sono quelle che hanno combattuto con lui nelle guerre galliche sono molto più deboli sono molto meno forti giura anche che non tornerà nel suo accampamento se non vittorioso nessuno ci dice Cesare crede che un generale così esperto possa dare assicurazioni prive di fondamento ma è chiaro che Cesare pensa il contrario ed è qui molto ironico quindi ci accingiamo a osservare dall'esterno la battaglia di Farsalo la battaglia che decide l'esito dell'intera guerra anche se Cesare e Pompeo non lo sanno ancora e Cesare nelle prossime pagine ci parla dello schieramento delle truppe esattamente o quasi come si parla dello schieramento di due squadre di calcio prima di un incontro io vi aspetto domani alle 8 della sera su Radio 2 alle 8 della sera Elio e il Debello Civili di Elio e Caio Giulio Cesare regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle 8 della sera www.radio2.rai.it Cesare e Pompeo sono uno di fronte all'altro nella piana di Farsalo Cesare si avvicina all'accampamento di Pompeo e vede quindi la disposizione delle sue truppe all'ala sinistra ci sono le legioni che Cesare con l'inganno oramai è chiaro a tutti era stato obbligato a cedere a Pompeo che sono la prima e la terza con Pompeo stesso al centro c'è Scipione mentre sull'ala destra Pompeo schiera le sue migliori truppe quelle giunte dalla Cilicia e dalla Spagna il fiume Enipeo scorre sul lato destro che è il lato debole e quindi aiuta in questo Pompeo in tutto si tratta di 45.000 uomini anche se le cifre in Giulio Cesare vanno sempre prese con le pinze Cesare invece schiera a sinistra Antonio con la nona legione decimata a cui aggiunge l'ottava legione formandone quindi con due quasi una sola al centro mette Calvino e sulla destra Publio Silla lui stesso si pone sul lato destro per essere di fronte a Pompeo complessivamente schiera ci dice sempre Cesare 22.000 uomini suddivisi in 80 coorti quindi da un veloce calcolo viene fuori che ogni coorte di Giulio Cesare conta circa 300 uomini se sono vere queste cifre Cesare ha pressa poco la metà degli uomini di Pompeo appena Cesare col suo intuito si accorge di un possibile attacco di Pompeo sul suo lato destro si inventa una contromossa toglie dalla sua terza linea una coorte per legione con le quali i coorti forma una sorta di quarta linea e a questi uomini dice che la vittoria dipenderà da loro comanda inoltre alla terza fila di muoversi solo al suo ordine ricorda a tutti i suoi uomini di avere sempre cercato di evitare spargimenti di sangue ma che tutto è sempre stato vano detto questo fa dare il segnale di tromba sta quindi per iniziare la battaglia di farsalo come fa altre volte Cesare cita il caso di un singolo in questo caso Crastino che lui ci dice essere un uomo valorosissimo il quale prima di cettarsi all'attacco si volge verso Cesare e gli urla queste frasi che vi leggo duemila anni dopo oggi farò in modo che tu mio generale mi debba ringraziare vivo o morto che io sia Pompeo nel frattempo ha dato ordine di aspettare l'attacco degli avversari perché perché spera che questi arrivino in fondo senza fiato dato che devono percorrere un tratto doppio e che arrivino senza ordine Cesare qui si ferma un attimo e giudica errato il comportamento di Pompeo dice che il generale non deve soffocare ma deve accrescere l'impulso a combattere dei suoi militi a cosa serve infatti allora suonare le trombe e urlare mentre si attacca se non ad accrescere appunto questo impulso infatti questo trucco di Pompeo non ha nessun effetto i soldati di Giulio Cesare spontaneamente si fermano a metà della loro corsa prendono fiato e ripartono urlando con nuova foga i Pompeiani sostengono ordinatamente questo primo urto e partono al contrattacco secondo i piani di Pompeo proprio contro la parte debole di Cesare cioè il suo lato destro quando sembra che abbiano la meglio e che stiano circondando quindi le truppe di Giulio Cesare scatta la contromossa Cesare dà ordine a quella che lui chiama la quarta linea di contrattaccare e quelle sole sei cohorti che aveva messo insieme in tutta fretta poco prima dell'inizio di questa battaglia attaccano i cavalieri di Pompeo che non reggono l'urto e fuggono ignominiosamente sulle cime dei monti circostanti i frombolieri e gli arcieri di Pompeo che avevano attaccato insieme a loro restano senza nessuna scorta e vengono massacrati senza che nessuno corra in loro soccorso le sei cohorti di Giulio Cesare che stanno capovolgendo le sorti di questa battaglia agirano nella loro corsa l'ala sinistra di Pompeo e l'attaccano alle loro spalle a questo punto Cesare dà il segnale atteso per la terza fila quelli a cui era stato detto di stare fermi fino all'ordine quindi arrivano nuove forze contro i Pompeiani che quindi non possono reggere l'urto e fuggono anche loro quando Pompeo vede che il suo piano è fallito e che proprio la parte migliore delle sue truppe fugge lascia il teatro della battaglia torna nel suo accampamento e dice alle sue guardie custodite l'accampamento e difendetelo con tutte le vostre forze io intanto giro intorno per le altre porte e cerco di incoraggiare i posti di guardia detto questo si ritira nel pretorio Cesare che ha intuito tutto e vuole approfittare fino in fondo del successo ordina di attaccare anche l'accampamento anche se c'è un grandissimo caldo perché siamo a mezzogiorno prende l'accampamento entra dentro e ci parla di quello che vede quando entra quindi con gli occhi di Cesare ora noi osserviamo l'accampamento dei Pompeiani in cui si vedono pergolati argenteria in mostra tende con zolle fresche al loro interno addirittura le tende di Lentulo che era l'ex console e di altri ricoperte di edera quindi un lusso eccessivo che viene criticato da Giulio Cesare e che svela quindi la totale fiducia dei Pompeiani nella vittoria Pompeo si strappa le insegne di generale e fugge dalla porta posteriore che è la porta decumana arriva fino al mare viaggiando anche alla notte senza sosta si imbarca su una nave che porta grano lamentandosi di essere stato tradito proprio da quelli su cui faceva più affidamento Cesare impadronitosi dell'accampamento si rende conto che qui si può chiudere il conto e quindi chiede con insistenza ai soldati che sono molto stanchi di insistere ancora per fare in modo che tutto termini proprio in quel giorno insegue quindi i Pompeiani che intanto sono andati sulle cime di un monte lì accanto e inizia una sorta di assedio visti questi lavori compiuti dalle truppe di Giulio Cesare i Pompeiani fuggono verso altri monti e dopo sei miglia si fermano su un ulteriore monte ai piedi del quale c'è un fiume allora Cesare che non vuole lasciare assolutamente niente di intentato inizia a fare delle trincee per togliere l'acqua ai Pompeiani quando i Pompeiani vedono ciò mandano degli ambasciatori per chiedere di non essere uccisi all'alba successiva Cesare ordina che scendano tutti a valle e a questi che chiedono piangendo di non essere uccisi egli dice che li lascerà tutti vivi e lo fa come fa quasi sempre e ci dice Cesare che in quella battaglia egli non perdette più di 200 uomini tra i quali però ben 30 centurioni e quel crastino che all'inizio della battaglia gli aveva detto quella frase incitando anche tutti i suoi compagni mentre dall'esercito di Pompeo Cesare dice che pare che siano morti circa 15.000 uomini e che se ne arresero più di 24.000 in realtà da altre fonti e cioè da Pollione si sa che i morti di Pompeo sono circa 6.000 ecco perché vi dico che dei numeri di Giulio Cesare non ci si può fidare sempre inoltre vengono riportate a Cesare dal campo degli avversari ben 180 insegne e 9 aquile Lucio Domizio uno dei generali di Pompeo mentre fugge dal campo verso il monte abbandonato dalle forze e sopraffatto dalla stanchezza viene ucciso dai cavalieri mentre accade tutto questo a Farsalo in altri luoghi continuano battaglie fra Pompeiani e truppe di Giulio Cesare per esempio a Brindisi Deciolelio occupa quell'isola che già altre volte era stata occupata dai Pompeiani Cassio piomba sulla città di Messina Cassio Pompeiano e usa la tecnica di navi da carico piene di materiale infiammabile che arrivano nel porto e incendiano tutte le altre navi con il vantaggio di un vento forte che quindi provoca incendi molto estesi ma quando arriva l'informazione della vittoria di Giulio Cesare inizialmente i Pompeiani pensano che sia falsa che sia un'invenzione degli amici di Giulio Cesare perché si era prima sparsa invece l'informazione della vittoria di Pompeo ma poi quando si assoda che è tutto vero solo questo serve a porre fine a ogni battaglia Cesare capisce che la sua priorità è quella di inseguire Pompeo in modo che non possa dar seguito a questa guerra fratricida allora indaga e scopre che ad Anfipoli è stato affisso una sorta di bando di reclutamento a suo nome ma non sa se questo è per il fatto che Pompeo voglia veramente assoldare delle truppe lì per mantenere il possesso di quella zona oppure se sia un trucco per farlo credere Pompeo salpa alla volta di Mitilene poi va in Cilicia e a Cipro ma ora è lui che soffre gli effetti dell'arrivo della notizia della sconfitta cioè tutti gli chiudono le loro porte allora cerca di riorganizzarsi arma duemila uomini e alla fine in mezzo a mille difficoltà giunge a Pelusio dove si trova il giovanissimo re Ptolomeo il quale sta combattendo contro Cleopatra che ha appena scacciato dal trono Pompeo manda dei messi a Ptolomeo confidando nell'amicizia di questo giovane re in quanto Pompeo poco tempo prima ha aiutato suo padre in un'altra guerra e gli chiede di essere accolto i messi inviati da Pompeo iniziano a parlare in termini troppo liberi con i soldati fra cui vi sono parecchi ex pompeiani che sono lì dopo aver preso parte a un'altra guerra si sono mantenuti lì saputo ciò gli amici del giovane re Ptolomeo e i suoi consiglieri fra cui Potino Achilla ma soprattutto Teodoto per paura che Pompeo voglia occupare Alessandria e l'intero paese o forse più semplicemente ci dice Cesare perché nella sventura spesso gli amici si trasformano in nemici e questa cosa dico io vale ancora oggi e in quanti casi si assiste proprio a questo spettacolo simularono quindi cordialità in una prima fase e lo invitarono a un incontro con il re al quale incontro però invece mandarono ad accoglierlo Achilla ci dice Cesare un uomo valorosissimo e Settinio un ex centurione di Pompeo e qui vorrei vorrei leggervi la scena della morte di Pompeo perché mi pare che nella sua freddezza diciamo e nella sua quasi assetticità invece ci sia un sincero dispiacere di Giulia Cesare per la morte del suo avversario ma ex amico salutato cordialmente da Costoro spinto da una certa conoscenza che aveva di Settinio il quale nella guerra contro i pirati aveva comandato nel suo esercito una centuria Pompeo salì su una piccola imbarcazione con pochi dei suoi qui viene ucciso da Achilla e Settinio il grande generale Pompeo viene ucciso in una piccola barca non c'è nessuna ironia in questa osservazione di Giulio Cesare ma più compassione per il glorioso collega e anche avversario di tante battaglie e disprezzo per i suoi assassini anche se non viene detto si capisce che Giulio Cesare se avesse catturato Pompeo non l'avrebbe ucciso ed è proprio questo che mi piace di Giulio Cesare cioè questo suo stile anche quando Giulio Cesare verrà ucciso dai congiurati delle idi di marzo per fare un esempio il suo ultimo gesto sarà quello di coprirsi con la veste per avere un aspetto più dignitoso nella morte beh morto Pompeo le ultime pagine dei commentari di questa guerra ci parlano di Cesare che salva come una sorta di supereroe per due volte il tesoro di Efeso di eventi miracolosi che avvengono nel giorno della sua vittoria a Farsalo ad esempio una statua che volta la sua faccia proprio in quel giorno ad Antiochia e a Tolemaide si sentono squilli di tromba di trombe che non esistono a Pergamo in un santuario si sentono suonare dei timpani anche in questo caso inesistenti e in un altro tempio fra le interconnessioni delle rocce spunta una palma Cesare intuisce che Pompeo Cesare non sa ancora che Pompeo è insomma stato ucciso intuisce che Pompeo sta andando in Egitto e si dirige proprio lì con poche truppe ad Alessandria apprende la morte di Pompeo quindi sente che tira una cattiva aria chiama altre truppe cerca di risolvere le controverse fra Tolomeo e Cleopatra ma si trova a combattere proprio contro quella chilla coinvolta nell'assassinio di Pompeo alla testa di un esercito ci dice Cesare stesso di forza tutt'altro che disprezzabile istigato dall'Eunuco Potino anche lui coinvolto nell'assassinio di Pompeo che è amministratore del regno e reggente del giovane re Tolomeo Cesare nel corso di questa ormai quasi guerra di Alessandria conquista l'isola di Faro che è posta all'imboccatura del porto di Alessandria e che dà il nome al Faro attuale quello che tutti conosciamo scopre il doppio gioco di Potino e lo fa uccidere e non può essere un caso che il libro si chiuda proprio in questo modo quasi a vendicare l'ingloriosa fine di Pompeo questi sono quindi gli inizi della guerra alessandrina di cui non si parla in questo libro se vi piace questa storia comperate il libro io ho per forza di cose dovuto fare molti tagli e quindi si sono persi tanti particolari interessanti che non vi perderete se leggerete il libro per conto vostro da parte mia vi saluto e vi ringrazio di essere stati all'ascolto